Ok. Buonasera a tutte e tutti, con piacere che a nome del Comitato Scientifico do il benvenuto a questo terzo incontro del seminario e del convegno della SISCO, il convegno dedicato al tema della democrazia, democrazia e costruzione e crisi in una prospettiva di storia globale. Un convegno che oggi è al terzo incontro e che copre un arco cronologico che va dal settecento al secolo che stiamo vivendo, agli anni duemila. Dopo un primo incontro che è stata la lezione introduttiva di Salvatore Beca che ha ragionato in termini anche teorici sulla democrazia, l'uso plurale, la necessità di un uso plurale del termine democrazie e la complessità e le sfide di questo concetto. Dopo l'ultimo incontro che è analizzato con più profondità tematiche ottocentesche, nel pomeriggio di oggi che sarà articolato in due sessioni, come quello scorso e come il prossimo che sarà domani, ci addentreremo nel ventesimo secolo. La sessione di oggi ha come titolo sfide, crisi e avversari e nelle prime due relazioni di questo pomeriggio, vedremo soprattutto due sfide, forse nella seconda anche una crisi però della democrazia. Sfide che caratterizzano quindi il corso delle democrazie che sono viste non come monolite ma come un concetto che trova delle realizzazioni concrete e che si trasforma e che cambia al proprio interno anche di fronte a necessità di inclusione o al contesto politico specifico che può portare a delle modificazioni e anche delle riduzioni o delle trasformazioni che vanno verso una riduzione invece dell'inclusività delle democrazie. La prima relazione di questo pomeriggio è dedicata al tema del rapporto tra democrazia e appunto il nodo esclusione-inclusione delle donne all'interno appunto dei sistemi democratici e quindi come fruitrici o meno dei diritti di cittadinanza. Quindi una relazione che affronterà da una parte il nodo di una democrazia che esclude alcuni soggetti dal proprio interno, dall'interno dei soggetti deputati a godere i diritti di cittadinanza e poi dall'altra parte invece il nodo opposto. Quindi cosa porta, quali sono anche le sfide che porta alla democrazia? L'inclusione di soggetti che erano pensati come soggetti esclusi. A parlare di questo tema, anche a scegliere questa declinazione, è la professoressa Vinzia Fiorino dell'Università di Pisa che appunto insegna storia contemporanea ma io tengo anche a dire che ha promosso e ha attivato lo studio, il corso di studi intersezionali di genere. La professoressa Fiorino è già stata un membro del direttivo della Società Italiana delle Storiche quindi questo è evidentemente uno dei suoi temi di ricerca insieme ad un altro tema che mi piace ricordare che è quello della storia sociale e culturale della psichiatria. Però il tema del genere della cittadinanza è uno dei suoi temi credo, spero di non sbagliare, dei suoi temi anche più attuali perché su questo tema ha pubblicato lo scorso anno nel 2020 per Viella un libro che si intitola Il genere della cittadinanza, diritti civili e politici delle donne in Francia. Con piacere quindi che non rubo altro tempo e lascio la parola a Vinzia Fiorino. Grazie Valeria. Io naturalmente intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti ma dicevo naturalmente ringrazio la SISCO e il Comitato Scientifico per l'invito e sono tra coloro che ha accolto un po' con entusiasmo perché effettivamente il tema è in assoluto tra i più belli, mi sentirei di dire e non ho nessun problema a confessare una sorta di freudiano spaesamento quando dovevo buttare giù degli appunti. Io in realtà però vado un po' indietro e quindi spero di analizzare, diciamo di svolgere la mia relazione sul lungo periodo ma iniziando anch'io dalla fine del Settecento. Dunque il tema è stato già presentato, affronterò il tema della democrazia in relazione alle aporie di genere a partire ovviamente da un dato macroscopico evidente, noto ma ineludibile che è appunto l'eredità di una lunga esclusione delle donne dai diritti di cittadinanza e in generale dalla sfera pubblica. Naturalmente farò riferimento ai rapporti tra cittadinanza e democrazia che sono evidentemente campi connessi ma anche in continua tensione. La scorsa settimana Matteo Battistini diceva bisogna pensare alla democrazia come continuo movimento, sono del tutto d'accordo. Possiamo citare anche la politologa belga Chantal Mufl che invece dice, che non invece ma altrettanto dice la democrazia e la democrazia che rende problematica, che è in calza, che ridisegna la cittadinanza e la sfera pubblica. Una breve, brevissima indicazione di metodo, forse più banalmente di prospettiva. Per affrontare i rapporti tra storia politica, democrazia in generale e soggetti non previsti appunto le donne, proprio perché non previsti, si impone nella mia prospettiva dicevo un'uscita, un andare oltre, come dire, il rigido perimetro dell'ordine politico per mettere in relazione, questo è un punto chiave per cogliere diciamo la mia riflessione, dicevo mettere in relazione diritti, principi costituzionali e concezione dei diritti, scusate, concezione dei soggetti, dunque ricapitolo, principi costituzionali, definizione di diritti e concezione del soggetto titolare o non titolare degli stessi diritti. Quindi una prospettiva che possiamo in sintesi spingerci verso, che ci spinge verso l'antropologia politica. Ora in altre circostanze, anche in seguito al cortese, invito sempre della Cisco, ho discusso un po' di quel tema che sta a fondamento delle riflessioni che poi oggi vorrei portare avanti, cioè le ragioni dell'esclusione dalla cittadinanza. Non ovviamente ripercorrerò questo stesso schema, però come dire, li dovrò rapidamente menzionare. Menzionare proprio perché si ha colto un po' l'interrogativo che Valeria già aveva anticipato, ossia che cosa ha significato nei sistemi democratici, l'inclusione di soggetti non previsti e anche se non pienamente cittadini, naturalmente i sistemi liberali prima, i sistemi democratici poi hanno investito fortemente sulle donne assegnando loro precisi ruoli e compiti ben codificati. Dunque l'altro interrogativo che sta a fondamento di questa mia chiacchierata è un po' come i movimenti delle donne hanno, o meglio suffragisti e femministi, hanno agito la rappresentanza e direi meglio hanno provato a risemantizzare le categorie di Stato, di diritti soggettivi, hanno provato a ripensare il senso del legame sociale. Una prima risposta è che certamente la costruzione di quello che noi oggi chiamiamo i sistemi di welfare, la riflessione sulla cura, in questo momento c'è un dibattito internazionale enorme, riflessione sulla cura come puntuale categoria politica e l'abbandono della centralità del soggetto tradizionale, mi sembrano due punti di approdo della riflessione. Dunque dicevo, ho discusso a lungo delle ragioni, dico strutturali, insomma che a me sembrano fondamentali e strutturali della esclusione delle donne dalla cittadinanza, qui cito a mo' di elenco la parzialità dell'universalismo, credo sia un dato abbastanza acquisito, la separazione tra sfera privata e sfera pubblica come esito della modernità, l'antinomia tra una logica quantitativa per intenderci una testa un voto e invece qualcosa che rimane in secondo piano ma che pure è presente, logiche invece tradizionali, organiciste, quindi le comunità, le corporazioni ma soprattutto per quel che ci riguarda la famiglia che rimangono invece nell'ombra e soprattutto di questo insomma su questo avvierò la riflessione il soggetto razionale per intenderci cartesiano e geliano e farò un riferimento al celebre Robinson che ci aiuta moltissimo. Altri due punti importanti per capire appunto perché soggetti non previsti o le ragioni della esclusione, il nesso, guerra e cittadinanza, guerra e fondazione della città o dello Stato che pure veniva richiamato nelle precedenti sedute, cioè la figura del cittadino in armi che serve la patria e che ovviamente di sesso ma esclusivamente, ma che è solo di sesso maschile. Vi è un altro punto che in qualche modo farà da eco a questa mia riflessione, cioè l'apporto, il contributo secondo me fondamentale della tradizione scientifica che ha legittimato le ragioni dell'esclusione delle donne dalla sfera pubblica e ha molto pesato in rapporto alla definizione delle esclusioni e quindi della democrazia. Dicevo, leggere il concetto, leggere la democrazia, la formazione della sfera pubblica in rapporto al soggetto che è titolare dei diritti. Ora, indubbiamente la figura del Robinson ci aiuta perché cosa ci restituisce? Ci restituisce l'immagine dell'uomo solo, la nuova forma di autonomia moderna che è quindi il nuovo processo di liberazione che nasce, richiamo ovviamente alcuni passaggi, quelli che a mio avviso sono i più importanti, che nasce da un atto di indisciplina. Forse ce lo ricordiamo e comunque lui decide di partire, il padre gli dice assolutamente di no, quindi il viaggio inizia con una disobbedienza rispetto al padre è un atto che rompe l'autorità paterna in quanto sede ovviamente e metafora dell'autorità tradizionale. Dunque il nuovo ordine sociale è l'esito di un atto volontaristico, di una conquista, di una autonomia individuale, sarebbe interessante anche riflettere sul termine autonomia in senso proprio etimologico del darsi la legge da solo, non più in una corrispondenza con un ordine stabilito, con una tradizione legittimata o non legittimata dall'autorità divina che sia, ma un atto di rottura individuale. Non è una novità da poco perché in fondo quando Kant argomenta che l'illuminismo è l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità che egli deve imputare a se stesso, a questo ci richiama, cioè chiama in causa profondamente la responsabilità soggettiva, l'atto individuale. Ovviamente seguendo la via dell'io autopoietico, dell'io tradizionale di ispirazione kantiana e non solo, chi si afferma non ha bisogno di un tutoraggio, non ha bisogno di protezione in quanto l'approdo alla novità, alla ragione o è privo di padri o non è. Quindi l'autonomia, anche questo è un passaggio che secondo me è importante, tende a identificarsi con il risultato di una separazione, di un isolamento ed è questo che sta a fondamento del processo di soggettivazione moderna di indipendenza. Ora è evidente che rispetto a questo processo che evoca una sua temporalità mettere insieme donne e popolazioni delle colonie, direi subito che le donne e le popolazioni di colore non sono mai soli, le donne nella famiglia, le popolazioni delle colonie sempre nelle loro tribù non hanno una storia, le donne sono tendenzialmente rappresentate, inchiodate in un tempo ciclico del corpo biologico, i popoli senza storia sono popoli inchiodati nella loro atemporale primitività e anche Locke ci dice dicendo avevano a disposizione i selvaggi vasti territori e non ne hanno fatto proprio nulla i proprietari, le donne e la proprietà è tutto un rapporto che è ben noto su questo e diciamo non immediato su questo, se volete possiamo, posso essere più chiara successivamente. Dunque, dunque, è quest'uomo solo e non è però bisogna essere chiari, non è un libera a tutti, non è una liberazione per tutti perché me lo dice benissimo Tocqueville pensando ovviamente all'America che certo nessuno mette in dubbio l'autorità del marito e mai gli americani avrebbero confuso l'autorità del pater familias con l'affermazione della democrazia. Dunque, la democrazia porta con sé questa altra dipendenza che è l'indipendenza delle donne diciamo incapsolate nella sfera domestica. Cosa hanno detto le donne? Quali donne? Io qui non posso essere ad entrarmi in molte in molte specificazioni ma alcune che hanno preso la parola. Andiamo a Napoli nel 1794 una nobile donna che scrive sui diritti delle donne, Rosa Califronia scrive diritti, per diritto intendo l'autorità legittima di fare, di avere, di recuperare, ma questa deve essere un'autorità che nasce da una obbligazione morale. Dunque non c'è proprietà, non c'è separazione, c'è una obbligazione morale, un vincolo morale, obbligazione nel senso appunto etimologico attraverso il legame io fondo un diritto. Anche la grande Olam de Gouge su questo dice delle cose precise, non solo nella famosa dichiarazione dice la tirannia perpetua che l'uomo oppone alle donne e quindi individua il punto del nuovo ordine moderno, ma dice anche che la libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri, dunque anche qui una logica di scambio, una logica di interconnessione, di relazione sociale. Dicevo prima però anche se non cittadine l'investimento sulle donne è stata importante. Cito a passando ovviamente la fase nazionalista ben nota e soprattutto molto 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 studiata, la famiglia è la metafora della nazione, la retorica nazionalista fondata su una rigida e precisa separazione dei generi, le donne sono chiamate ad essere portatrici della nazione, quindi devono dare il loro portato biologico al nuovo stato nazionale e poi tutta l'immagine della figura della madre dolorosa, figura oblativa per eccellenza in cui appunto le madri assurgono a modello di devozione per diventare officianti della liturgia del dolore dei morti per la patria. Ma non solo, se andiamo avanti, dalla nazione andiamo all'impero, c'è chiaramente un fardello della donna bianca. Donne europee, donne italiane, prive di cittadinanza, stanno dentro un progetto di stato imperialista e in continuità con i ruoli loro assegnati dal nazionalismo naturalmente devono svolgere alcuni compiti che sono quelle delle guerre coloniali prima e mondiali dopo appunto a supporto delle stesse imprese. imprese. Ma fondati gli imperi sono chiamate anche a nuovi ruoli. Il ruolo di istinto materno veniva esibito come virtù femminile sconosciuta ai popoli colonizzati, proprio a sostanziare ulteriormente la superiorità occidentale, quindi un ruolo nella relazione ehm coloniale di primissimo di primissimo ehm 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 piano eh direi quindi eh di chiudere questo passaggio ricordando che dopo essere state considerate asse della civilizzazione all'interno della nazione per il loro compito educativo eh di eh contenimento delle delle emozioni possono possono su un raggio più eh più ampio ehm essere le protagoniste del processo di civilizzazione eh nel per le popolazioni assoggettate. Naturalmente il corollario è che l'altra diviene un oggetto sempre più passivo inconsapevole dell'interesse e invece dell'intervento delle sorelle maggiori dei paesi occidentali. Su questo il testo di eh Katia Papa dice delle del ehm ehm propone oltre una ricerca delle considerazioni molto eh molto eh illuminanti eh però ehm ehm ovviamente anche le eh grandi eh suffragiste eh e cascano diciamo così in alcune contraddizioni e questo non ci stupisce ma no su questo dobbiamo anche interrogarci eh forse la più grande eh suffragista francese di Hubertino Claire eh che pone i diritti politici come la prima delle battaglie, la fondamentale delle battaglie perché è la politica che le interessa e che sta al centro quando ehm va in Algeria per motivi personali eh poi alla fine dice beh però è impensabile nonché ingiusto che i negri votino prima di noi donne francesi colte e e e istruite eh e comunque il colonialismo francese in Algeria è stato un motore è stato il portatore di processi di democratizzazione nonché di liberazione per le donne. Ma l'interrogativo era anche un altro. L'interrogativo era ma quando eh i movimenti suffragisti e femministi hanno rivendicato i diritti politici che cosa hanno risemantizzato mi chiedevo all'inizio ehm ehm il concetto di stesso di diritto insomma il loro la sfera pubblica il loro stare in politica il loro venire al mondo nella politica. Certamente la risposta è quella che ho un po' anticipato la costruzione di quello che da lì a poco avremmo chiamato il welfare stamp. Qui gli esempi sono moltissimi. Forse se penso all'esperienza italiana italiana mi eh fermo soltanto a ricordare l'esperienza dell'unione femminile di Milano che appunto coniuga rivendicazioni giuridiche paritarie non e attività assistenziali. Quindi le invitanti raccolgono eh insomma come le stanno stanno proprio a contatto con le aree di maggiore difficoltà eh raccolgono date sulle condizioni sociali cercano di ottenere sussidi buoni per il latte visite mediche affette effettuano assistenza ehm eh domiciliari stanno in periferio nelle aree appunto dicevo prima di ehm maggiore eh difficoltà sociale. In fondo nonostante ne se ne sia eh come dire eh dimenticata l'origine la Cassa Nazionale di Maternità piccolo diciamo esperimento eh limitato di stato sociale introdotta appunto come tutti ricordiamo nel 1910 a quelle esperienze faceva riferimento. E anche la nostra Libertine O'Claire ehm parla di un abbandono della dello stato minotauro che esige le tasse ad un eh stato materno che offre una serie di diritti sociali. Lei va al cuore della statualità del compito che ha lo stato nel rinsaldare i legami sociali e le relazioni tra le classi e dice anche all'origine dei diritti ci sono dei bisogni insopprimibili che dobbiamo porre a fondamento della organizzazione sociale. Non solo tutto questo quindi ci dà un'idea di statualità differente ma ovviamente con questa costruzione del welfare ehm eh si vuole superare la tradizionale separazione tra pubblico e privato che ovviamente aveva incasellato le donne nel esclusivamente questo è il punto nel privato. Ora eh questa riflessione sulla eh cura è molto importante anche per un altro aspetto ehm teorico che mi interessa. Presuppone non un soggetto monologico ma un soggetto dialogico quindi non un soggetto Robinson per intenderci sovrano che basta a se stesso ma proprio perché bisognoso di cure che dà cure o che le riceve sta in una relazione. La cura quindi non è soltanto qualcosa del nel privato così come eh la la come della democrazia la i sistemi politici ottocenteschi avevano pensato ma diviene alfabeto della politica. Quindi eh è un aspetto di relazione importante che eh la storiografia ha eh diciamo la consapevolezza collettiva le le riflessioni teoriche hanno tenuto in secondo piano. Non si accetta di essere vincolati il il Robinson non si vede non si vedrà mai come vulnerabile e invece eh la riflessione va in una direzione contraria nella relazione di cura nel farsi nel farsi carico di altri nel per prendersi cura di altri. Eh in realtà un momento di crisi un momento di crisi eh di questo Robinson eh ehm sempre per rimanere nella nel nell'immagine e c'era stato ed è proprio quella crisi di fine secolo su cui la settimana scorsa ehm eh Giulia Guazzaloc ha tenuto una ehm relazione ad hoc quindi io mi limito soltanto a riprendere a riguardare il problema da un altro punto di vista. Eh eh quell'uomo della crisi di fine secolo naturalmente c'è una crisi del parlamentarismo che tutti sappiamo naturalmente c'è una pressione dei movimenti anche femministi un po' meno in Italia ma se guardiamo eh all'Europa soprattutto alla Francia una più ampia eh pressione dei movimenti femministi che spingono e che spingono la direzione appunto della democrazia. Eh l'uomo è in crisi, il Robinson è in crisi eh e eh per eh raccontare per eh sostanziare questa eh antropologia negativa di fine secolo si fa guarda caso riferimento a tutto ciò che una eh tradizione scientifica aveva detto sulle donne. Eh l'uomo in gruppo, l'uomo in gruppo e l'uomo all'interno della camera non è non è Prometeo, non è più Robinson ma è colui che abbica eh la propria, il proprio pezzetto di sovranità al gruppo, è colui che eh si inchina all'autorevolezza del leader e infatti le masse sono femmine direi in sintesi. Ehm prevale dunque una antropologia negativa che eh utilizza quella quella eh riflessione per eh ripensare un po' al al modello eh tradizionale. Non solo. Ma è proprio in quel contesto siamo proprio all'apogeo della tradizione eh della tradizione democratica eh scusate della tradizione eh positivista che eh si ripercorre indietro la storia e che eh le donne rivoluzionarie vengono presentate come eccessive, come eh come ehm davvero pericolose appunto perché incapaci di un autogoverno e questo corpo scomposto ehm che noi possiamo recuperare attraverso una produzione di immagini molto eh molto copiosa e ehm è come dire la prima il il primo scatto di tutto ciò che ancora oggi continuiamo a vedere eh quando vediamo faccio soltanto un esempio ma insomma ci siamo capiti bambole gonfiabili riferite a donne che hanno ruoli istituzionali ehm importanti o donne politiche tugur si fa riferimento a questo corpo scomposto credo che eh non si tratti di eh battute poco carine ma che eh abbia dietro un lungo e eh e eh problematico passato. Ora eh facciamo eh un passo avanti ehm e arriviamo anche alla democrazia, naturalmente eh qui ci sarebbe da fare tutto un discorso che eh non è esattamente di mia eh competenza sul ruolo delle donne nella democrazia compiuta quindi diciamo per venire agli anni più eh a noi vicini ma io invece mi fermo in un momento perché eh c'è un un momento che è quello in cui eh la democrazia poi è il riconoscimento dei diritti politici che non sono esattamente la stessa cosa ma insomma il momento in cui le donne diventano in Italia cittadine ehm ehm anche qui mi sembra che ci sia un altro un altro elemento eh da da richiamare eh naturalmente le donne sono cittadine perché hanno fatto la resistenza lo dico in maniera da da slogan e perché lo hanno chiesto esplicitamente come elemento non negoziabile all'interno del del comitato di liberazione nazionale e poi come è noto ci sono gli accordi dei partiti soprattutto di De Gasperi e di eh Togliatti non si poteva tornare indietro rispetto alla eh alla società di massa dopo un regime autoritario di massa si doveva costruire una democrazia di massa passaggi fundamentali ma alle donne ancora una volta si chiede eh un impegno a favore della civilizzazione che ha tutto un segno particolare perché io questa questo dopoguerra lo vorrei leggere non solo come accordi di partito e quindi i due blocchi eccetera ma come ehm soprattutto nel diegno eh 45-47 come una ehm una grande e profonda crisi morale eh che fa emergere eh dice Dionisotto Dionisotto l'anima ferina che va ricomposta e in quel caso le donne sono richiamate a moralizzare il il corpo il corpo eh politico e il corpo della della nazione eh due ultime anzi forse un'ultima riflessione e così credo di eh stare nei tempi ehm nel dopoguerra ovviamente è il dibattito sulla democrazia è enorme e sconfinata tra i tanti eh vi è una lettura ehm che eh considera secondo la quale la democrazia eh è stata sostanzialmente una tecnica di pacificazione dei conflitti quindi come dire la pacificazione dei conflitti una ehm un sistema politico in grado di controllare l'esercizio della violenza di cui lo Stato ovviamente avrebbe il monopolio non solo ma da dove il mercato genera disuguaglianze il sistema rappresentativo democratico con le sue contese elettorali in un certo senso prova a riequilibrarlo ora non sono una grande entusiasta eh dei eh del sistema dei vasi comunicanti un mercato che va in una direzione che è controbilanciato da da un altro ehm ehm così come sono molto lontana da una definizione della democrazia eh che ho trovato sempre sterile un po' troppo eh scheletrica che la rimanda a un sistema di regole ehm del gioco ehm eh tutta questa riflessione mi sembra e rivi a invece ai sistemi democratici che promuovono il processo di civilizzazione ma anche qui ritorniamo su una dicotomia importante da una parte c'è un kratos rigidamente in mani maschili dall'altro un processo di civilizzazione affidato alle donne e allora e allora questo è eh ci porta all'oggi ci porta a una situazione di oggi che non è di caos e e e rispetto a diciamo il eh la situazione di oggi di disparità di genere ma anche alla violenza varia diversificata si evoca nei confronti delle donne si evoca eh così una sorta di atavismo lombrosiano insomma la natura ferina dell'individuo di sesso maschile che insorge insorge a livelli diversi femminicidi frasi ehm frasi ehm eh sessiste e e così e così via ora a me sembra che anche questa separazione da una parte affidare alle donne il processo di civilizzazione e continuare sull'idea che tanto gli uomini hanno il kratos per intenderci eh quindi il eh il potere nel senso tradizionale abbia mostrato tutte le sue le sue eh tutti i suoi limiti ben consapevoli del fatto che violenze contro le donne e ehm atti di sessismo hanno ovviamente altre ehm altre ehm variabili. Ora eh chiudo dicendo ehm che rimane un punto di confronto con le generazioni precedenti ma che ora appunto è eh eh davvero sotto i riflettori eh questo tema della cura ehm non solo ovviamente in tempi di eh pandemia perché ehm nella cura non c'è l'uomo solo che annette in servitù a che mette altri in servitù da a partire dal dal Robinson ma c'è una relazione non è come dire neppure l'io sartriano dell'io in situazione che non a caso peraltro diceva che l'altro era un inferno ma è un stare nella relazione sociale. Chiudo con un paradosso ehm ricordando che mh i movimenti femministi attuali ma anche diciamo delle altre ehm eh comunità che eh non seguono diciamo una eh una sessualità eteronormata e chiedono ho in mente come direte una serie di interventi importanti che sono stati pubblicati dalla negli ultimi anni dalla rivista eh citizenship studies e dunque chiedono un forte riconoscimento nell'ambito politico quindi dove la democrazia liberale andava verso ehm in senso contrario dice la libertà fuori la libertà da e chiedono invece un riconoscimento oserei dire quasi in in senso ehm egheliano. Ehm e allora c'è un paradosso con cui voglio voglio chiudere eh ovviamente premettendo che la democrazia ateniese nulla ha da insegnare alle 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 donne per ovvi motivi eh il famoso epitafio di Pericle quello ripreso da Tuscide che è un po' come dire il manifesto della democrazia eh ateniese insomma il 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 testo eh eh di assiologia dell'idea di democrazia di dove troviamo tutti eh i valori che questa forma ehm e mantiene eh insomma Pericle dice eh gli ateniesi sono egemoni non per il loro potere politico o commerciale ma perché sono tutti filosofi e tutti amano il bello e paradosso dei paradossi eh qui la nostra democrazia consiste nell'armonizzare la sfera privata con quella pubblica senza mai subordinare l'una all'altra un vero paradosso vi ringrazio sono stata perfettamente nei tempi e tenevo il contrario assolutamente sì grazie mille Vinzia Fiorino è stata nella mezz'ora precisa ehm grazie poi avremo modo di discutere di questa prima relazione che ha analizzato eh frizioni e momenti di di complessità sul nodo esclusione inclusione formale informale dalla della democrazia ehm do però prima la parola al secondo relatore il secondo intervento di questo pomeriggio è effettivamente più novecentesco più centrato per anche per eh la scelta del tema eh su un altro eh momento eh di eh sfida alla democrazia eh o sfida che vengono poste eh in questo caso la democrazia da uno specifico contesto politico da un'altra crisi che non è la crisi di fine secolo citata in questa ultima relazione ma è eh la crisi della Germania eh nel nel primo dopoguerra quindi una ehm esperienza di di democrazia che deve confrontarsi con la crisi economica con una crisi che poi diventerà politica e che può mettere in discussione alla democrazia stessa. Il titolo di questa relazione è appunto crisi economica e crisi politica il caso di Weimar eh a parlarcene eh sarà il professor Gustavo Corni che è eh professore ordinario è stato professore ordinario a Chieti Pescara quindi avrebbe giocato un po' in casa anche se poi è insegnato a a Trieste e a Trento sarebbe stato in casa se fossimo riusciti a fare come abbiamo auspicato tutti questo incontro questo convegno in in presenza ehm il professor Gustavo Corni si occupa eh proprio di storia tedesca tra settecento e novecento di storia dello stato moderno e della sua ehm trasformazione o evoluzione non so se sia il termine più corretto verso forme di tatturale di massa quindi la democrazia che eh che perde terreno e anche ehm di regimi di regimi fascisti ehm tra le sue numerose pubblicazioni cito l'ultima che non lo so se l'ultima comunque una delle più recenti che è ehm stata pubblicata anche in questo caso nel nel 2020 che è tratta proprio del del tema eh del macro tema eh almeno eh attorno a cui ruota anche questo intervento eh che fa il convegno della SISQ il titolo del libro è Weimar la Germania dal diciotto dal novantatré voglio ricordare anche sul libro che anche la questione del della eh presenza del ruolo eh delle donne eh di Weimar dedica un un intero un intero capitolo eh quindi lascio la parola al professor Corni che io personalmente non riesco a vedere in questo momento però eccolo ci sono ci sono a lei la parola intanto grazie per l'invito mi ha fatto molto piacere essere eh essere online avrei naturalmente preferito di gran lunga incontrare eh gli amici e i colleghi a a Pescara dove ho insegnato appunto molti anni fa per un triennio dove ho avuto anche il piacere di conoscere Enzo Fimiani porterò eh la attenzione dei presenti su una su un terreno molto molto diverso rispetto a quello della collega che mi ha preceduto ma eh peraltro eh la mia presenza in questa prima sessione è legata anche a motivi di carattere così meramente logistico pratico avrei dovuto parlare nella seconda ma non c'è problema qual è il problema al quale vorrei dedicare la mia attenzione per una mezz'oretta? Nell'autunno del 1929 scoppia come tutti noi sappiamo la grande crisi economica eh che diciamo si sostanzia nella crollo della borsa di Wall Street che ormai era diventata superando Parigi e Londra era diventata dalla fine della prima guerra mondiale il punto di riferimento mondiale della eh del sistema capitalistico una crisi economica che eh come sappiamo eh ha larghi cerchi concentrici eh colpisce un po' tutto eh il mondo mettendo in evidenza il il dato di fatto che proprio nel 1919 polemizzando con i vincitori che volevano punire la Germania alla conferenza di pace di Versailles e di Parigi eh Keynes aveva già evidenziato nel suo bellissimo libretto sulle conseguenze economiche della pace cioè il fatto che eh le economie internazionali ormai erano tutte interdipendenti ed era un dato che non poteva essere come dire eh smentito eh capovolto da nessuna decisione di natura politica eh qualsivoglia e la conseguenza più diretta il colpo più diretto è anche più immediato dal punto di vista temporale della crisi economica scoppiata negli Stati Uniti eh si ripercuote sull'economia tedesca. Questo per una serie di motivi molto eh diciamo molto contingenti che sono legati al fatto che tra tra il 24-25 e appunto l'autunno del 1929 erano stati proprio eh i capitali americani a intervenire massicciamente per aiutare l'economia tedesca a uscire dalle secche della sua grave crisi post bellica che aveva trovato il centro nella spirale iperinflattiva nel novembre del 1923 come probabilmente a molti è noto eh un eh per avere un dollaro sui mercati internazionali occorrevano sborsare quattromila miliardi più di quattromila miliardi di marchi e non ho detto una frase una parola sbagliata una cifra sbagliata ma assolutamente eh questo era il rapporto e quindi l'intervento del massiccio delle dei capitali americani eh fruttuoso e positivo eh nei primissimi anni quando nel 1929 scoppia la crisi negli Stati Uniti si eh capovolge immediatamente nel suo eh opposto eh i capitali vengono ritirati alla economia tedesca in fase di eh grande sviluppo di grande crescita vengono improvvisamente meno questi fondamentali supporti di natura finanziaria ricordiamo che la Germania post bellica era molto debole dal punto di vista finanziario e questo si ripercuota immediatamente sull'economia tedesca e che segue il percorso dell'economia eh della dell'economia americana nella crisi e che in particolare con il fenomeno gravissimo di massa della disoccupazione tra l'altro ricordo che proporzionalmente eh l'economia tedesca subisce una disoccupazione di massa più forte persino di quella statunitense eh se eh il numero di disoccupati negli Stati Uniti raggiunge il suo punto massimo intorno agli 11-12 milioni nel 1931-32 nello stesso anno l'economia tedesca ne conta più di sei milioni e che in proporzione sono eh ben ben di più dei disoccupati americani. Un terzo della forza lavoro tedesca è disoccupato nell'inverno 1931-32. L'astereografia ha fatto un ha tracciato un legame molto stretto un nesso molto stretto tra la la crisi economica eh del ventinove e le sue eh terribili eh conseguenze sociali in particolare la disoccupazione di massa e l'avvento al potere eh di Hitler e del nazionalsocialismo attraverso una serie di eh successi elettorali che il partito di Hitler avrebbe eh segnato avrebbe che avrebbe raccolto dall'autunno del 1930 fino alla primavera del 1933 marzo 1933 le ultime elezioni che si tengono per il parlamento tedesco per il Reichstag eh quando Hitler è già da due da quasi due mesi eh cancelliere del Reich. E questo legame molto stretto veniva eh evidenziato nella eh veniva eh veniva collocato dentro a un quadro più diciamo più generale a un contesto più generale che la storiografia benché su Weimar se siano scritti fiumi di chiostro ma che è e con revisioni letture molto approfondite però che la storiografia soprattutto quella tedesca ha fatto molta fatica ad abbandonare fa molta fatica ad abbandonare c'è il quadro eh così di questa sorta di destino della repubblica eh democratica della prima repubblica democratica tedesca eh a cui eh la crisi economica del vittinove avrebbe dato per così dire il colpo di grazia. Eh e perché l'ascesa del partito nazionalsocialista più di tutti gli altri perché il partito di Hitler eh colse più di tutti gli altri i i la la congiuntura favorevole ad esso per sovvertire l'ordine democratico eh esistente eh per tre sostanziali ordini di motivi primo la grandissima e ben superiore a tutti gli altri partiti capacità organizzativa di militanza e di mobilitazione che il partito nazionalsocialista mise in atto tra il 1930 e 1933 in secondo luogo ma non li sto mettendo in ordine di importanza eventualmente li sto mettendo in ordine di importanza crescente in secondo luogo la capacità di eh proporre un un programma politico eh di soluzione quasi magica o magico religiosa di tutti i problemi dell'esistente terzo eh la figura eh assolutamente carismatica di Adolf Hitler capace con la sua personalità e con il suo dinamismo questo è il racconto naturalmente che viene fortemente condizionato dalla propaganda eh interna eh come sappiamo eh giostrata orchestrata soprattutto da Josef Goebbels la capacità di Hitler come eh uomo politico di eh proporsi eh con una statura e con una una verve con un segno assolutamente superiore alla eh corpo alla classe politica che lo circondava. Questo è sostanzialmente il punto di partenza delle mie riflessioni che eh si si possono concentrare attorno a due questioni che io vorrei eh mettere in evidenza anche se in breve tempo. Qual è più specifica specificatamente questa è la prima il nesso tra crisi economica e crisi politica nella Germania di Weimar e il secondo per quali motivi la crisi politica ha avuto lo sbocco che ha avuto. Per guarda per quanto riguarda il primo aspetto proprio il caso degli Stati Uniti il paese da cui parte la crisi parte l'innesco della grande crisi del ventinove e ci dimostrano eh con eh chiarezza che non c'è nessun non c'era in quel momento specifico io non sto parlando di eh a differenza della collega Fiorino non sto parlando di eh modelli ma sto parlando essenzialmente delle dell'empiria eh storica storografica non c'è un nesso di causalità eh chiaro anzi non esiste assolutamente tra la crisi economica del ventinove e la crisi politica proprio negli Stati Uniti eh come per esempio ha dimostrato in studi eh pionieristici degli anni ottanta Jürgen Kocka ponendosi proprio il problema a partire dal eh dal cote tedesco dalla parte tedesca proprio eh il caso degli Stati Uniti dimostra che dalla crisi economica si poteva uscire e si è usciti in eh una direzione opposta a quella eh hitleriana e nazionalsocialista cioè si è usciti in direzione del di un rafforzamento di un consolidamento di una eh di un incremento e miglioramento della democrazia. Quindi questo messo eh è diciamo così eh messo in discussione in prima eh in prima eh battuta ma anche eh se andiamo ad analizzare eh gli aspetti poi specifici della dell'evoluzione della crisi in Germania vorrei mettere in evidenza due aspetti che sono anzi tre aspetti che sono a mio parere eh importanti e che eh come dire eh aprono adesso eh la serie dei delle sfumature sulle quali vorrei eh portare l'attenzione di chi mi ascolta. Il primo aspetto è che eh la crisi politica eh diventa eh evidente già un anno prima dell'autunno del 1929 e lo diventa non in connessione con la crisi economica generale eh come solitamente si tende a a dire ad accettare ma in connessione con la crisi del mondo agrario. Generalmente quando parliamo di stati occidentali moderni del ventesimo secolo finiamo per trascurare più delle volte eh l'agricoltura pensando che sia un fattore eh rilevante o di rilevanza secondaria sarà perché a questo tema eh ho dedicato molti decenni di studio in realtà sono giunto alla conclusione che ciò non è affatto vero e il caso tedesco non è assolutamente emblematico. Il corso del 1928 segni di crisi eh dei dei sistemi eh di legittimazione della democrazia e in particolare di legittimazione dei sistemi politici si hanno non nelle aree centrali della Germania che so Berlino, la Rur, la Sassonia, eh Monaco ma si hanno nelle aree periferiche della Germania, nelle aree rurali della Germania per esempio nello Schleswig-Holstein oppure nei territori a est dell'Elba e eh assumono come dire le caratteristiche di eh di rivolte, di eh malesseri diffusi nel mondo contadino, nella popolazione rurale e legati essenzialmente alla difficile, difficilissima situazione della dell'agricoltura tedesca che non è che non è assolutamente collegata alla crisi economica del ventinove che poi successivamente come dire eh finirà per legarsi naturalmente al entrare nel vortice della grande crisi del ventinove ma che ha delle sue specifiche, una sua specifica genesi. Il secondo chiaroscuro sul quale vorrei eh soffermarmi è eh che eh una interpretazione eh largamente diffusa anche qui nella storiografia internazionale e forse anche nel senso comune eh della storia che noi abbiamo eh sarebbe quello che eh la risposta data dai governi tedeschi eh alla crisi economica del ventinove trenta diciamo così in Germania arriva con qualche mese di ritardo sarebbe stata essa stessa un elemento di eh accentuazione di aggravamento delle della crisi. E il riferimento è quello che viene fatto alla ai governi cosiddetti presidenziali in particolare ai governi Brüning che sta eh che governa appunto dal marzo del 1930 all'estate del 1932 governi presidenziali perché secondo un ben noto eh articolo della Costituzione di Weimar il presidente del Reich poteva in determinate situazioni di emergenza assumere poteri straordinari e costituire governi che rispondessero a lui che fossero di fiducia del presidente e che non avessero una eh legame di eh diciamo un feedback di eh sostegno da parte eh del del Parlamento e quindi cosiddetti governi presidenziali e la scelta di Brüning eh esponente del cattolico del centrum esponente di secondo piano del centrum che Hindenburg sceglie a governare nel marzo del 1930 la crisi a padroneggiare la crisi sarebbe stata deleteria sarebbe stata estremamente nociva per la la le sorti della democrazia della Repubblica in quanto eh Brüning avrebbe scelto fatto una scelta deflazionistica a differenza di Roosevelt e di New Deal con come ben sappiamo la 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 scelta invece di tipo keynesiano di tipo e la realtà dei dei fatti dal punto di vista dell'analisi dell'analisi di storia economica l'aveva già messa in evidenza negli anni ottanta Kurt Borchart uno dei più importanti storici economici eh della Germania il quale eh come dire aveva riletto eh rianalizzato le politiche di Brüning le politiche deflazionistiche di Brüning di di lagrime e sangue eh finendo per affermare per sostenere che eh il cancelliere non aveva poi avuto tutti i torti quando eh costretto poi dopo il trentatré all'esilio americano aveva scritto nelle sue memorie la quella famosissima frase eh di essere stato fermato eh dal presidente Hindenburg a cento metri dal traguardo quindi quando stava per si stavano per vedere i frutti e lui stava per cogliere i frutti della sua politica deflazionistica anche questo appunto sembra essere un elemento importante a mio parere eh che eh mette un pochettino in crisi questo nesso eh apparentemente così indiscutibile e così stretto tra crisi economica e crisi politica ehm perché in realtà ehm i dato i dati economici sono abbastanza significativi e ed è ben noto che Hitler eh trasse tutti i frutti politici fu in grado fu capace di trarre tutti i frutti politici possibili proprio da quei eh progressi che l'economia aveva fatto tra trentadue e trentatré e e anche usando in parte l'armamentario che Brüning aveva messo in campo o aveva progettato nella fase finale dei suoi governi presidenziali proprio per eh trionfare poi e presentarsi all'opinione pubblica tedesca e anche internazionale come come colui che aveva magicamente salvificamente fatto uscire la Germania dalla crisi quindi eh anche questo elemento è un elemento a mio parere eh importante che eh come dire ehm questo elemento persona di periodizzazione che eh mette un po' in discussione questo legame stretto tra crisi politica e crisi economica. Il terzo elemento di ehm di eh nuance di eh chiaroscuro sul quale vorrei soffermarmi brevemente riguarda il fatto che anche se noi siamo soliti eh gli stessi tedeschi insomma usano il termine Machtergreifung presa del potere e lo collocano temporalmente al trenta gennaio mil novecentotrentatré cioè la nomina di Hitler a cancelliere ehm in realtà facendo un facile credo paragone con quanto accaduto era accaduto in Italia a undici anni prima eh l'ottobre del milenovecentotrentidue non può assolutamente essere considerato il momento diciamo di svolta della verso la dittatura altrettanto il trenta gennaio del milenovecentotrentatré non può essere considerato il momento di svolta verso la dittatura. Eh occorreranno passaggi nel caso italiano più lunghi e più complessi sappiamo per la cornice istituzionale completamente diversa fra l'altro per la cornice istituzionale completamente diversa tra Italia e Germania ma occorreranno dei passaggi temporali istituzionali importanti perché come dire dalla crisi della Repubblica si passi davvero alla dittatura eh hitleriana senza dubbio non prima del primo agosto dell'anno successivo millenovecentotrentaquattro quando eh l'uscita di scena biologica la morte di Paul von Hindenburg dell'ultimo presidente del Reich spianò definitivamente l'ultimo ostacolo istituzionale che stava sulla strada di Hitler per costruire la sua dittatura personale. Quindi noi ci troviamo di fronte a mio avviso a un a uno schema interpretativo eh molto forte molto molto diffuso molto eh largamente accettato a livello internazionale lo sottolineo in particolare dall'astereografia tedesca quello della snesso strettissimo tra tra crisi economica e crisi politica che invece eh appare da da molti punti di vista eh come dire sfaccettato eh eh con contorni eh non non del tutto chiari e non del tutto netti. Occorre tenere al mio parere e qui siamo come dire alla parte alla parte construense del mio eh del mio ragionamento occorre tenere presente una serie di elementi eh che sono contestuali ma che sono anche incidentali e che si vengono a intersecare con questo snodo complesso tra crisi politica e crisi economica. Il sistema dei partiti di Weimar. Certamente la repubblica di Weimar è caratterizzata da una fortissima instabilità governativa eh la stessa costituzione di Weimar con un sistema eh elettorale puramente puramente proporzionale aveva probabilmente contribuito a porre le condizioni o una delle condizioni per questa instabilità di fatto per tutti i quindici anni, quattordici anni e mezzo di vita della repubblica di Weimar non ci fu mai un governo eh con una salda maggioranza eh parlamentare. I governi che si succedettero furono eh una eh almeno sedici e tal marzo trentatré fino alla eh all'avvento al potere di Hitler abbiamo a che fare con dei governi che sono slegati se non del tutto ma sono slegati largamente dalla dinamica eh parlamentare quindi dalla dinamica democratica in senso stretto. Quindi è vero, questo è vero. Eh è un dato significativo, cruciale direi ed è un dato che si spiega abbastanza chiaramente con il fatto che ehm beh i partiti eh di Weimar sono più o meno con qualche piccolo cambiamento più che altro di natura nominalistica che di natura sostanziale gli stessi partiti che eh si erano che avevano funzionato bene o male nell'impero eh dal 1871 in poi quindi erano partiti eh di vecchio stampo eh di tipo in larga misura notabilare eh con che per tutto il lungo periodo imperiale sia durante la fase bisbarchiana che anche durante la successiva fase dominata dalla personalità di Guillermo II eh non avevano in realtà eh avuto modo di esercitare eh un ruolo politico eh cruciale. Non lo avevano avuto perché il sistema istituzionale del eh del Reich eh si attribuiva al Reichstag, al Parlamento alcune eh funzioni in particolare relative a certe voci del bilancio del Reich ma di fatto eh il Reichstag non funziona non aveva un eh valore eh diciamo cruciale e decisivo sul funzionamento del sistema politico in quanto tale. Non c'è mai stato un governo eh del Reich fino al 1918 che abbia risposto al Parlamento, che abbia dovuto rispondere al Parlamento e eh i primi segni di vita, il primo colpo battuto dal Parlamento eh e in particolare dai due partiti che avrebbero poi dato vita alla Repubblica di Weimar, il Partito Socialdemocratico e il Partito Cattolico del Centrum per aspettare questo primo segno di una veramente significativa sostanziale dialettica parlamentare eh risale alla primavera del 1917 quando in piena guerra e in piena crisi eh di guerra eh nel Parlamento si eh abbozza, si costituisce una sorta di maggioranza ombra che non ha davvero incidenza in quel momento sulla vita politica del paese men che meno sulle decisioni eh belliche che vengono prese dal Reich ma che delinea in qualche modo ciò che sarebbe poi avvenuto un anno e mezzo dopo dopo la crisi militare, la sconfitta militare dell'autunno del 1919. Quindi noi ci troviamo di fronte ad un sistema politico, ad un sistema partitico eh molto debole, strutturalmente molto debole e del tutto incapace di eh fare come dire i conti con una eh democrazia eh complessa non ne aveva eh non ne aveva le eh eh realmente le possibilità. Ci sono però dentro a questo ragionamento di di tipo contestuale, ci sono degli elementi di natura incidentale che non possono assolutamente essere sottacenuti. Siamo da parte per il momento Hitler ma ci sono delle figure, degli individui, delle personalità che giocano ruoli o che avrebbero potuto giocare ruoli e che invece per svariati motivi non giocano ruoli. Noi non possiamo fare naturalmente la storia eh dei se eh questo è chiaro. Però nel momento in cui noi ci chiediamo se la Repubblica di Weimar fosse destinata a crollare, ci chiediamo se eh fosse predeterminato, pre-iscritto nel Sonderweig della storia tedesca, nella via particolare della della storia tedesca, la eh la caduta eh nel nel gorgo della dittatura, beh allora io credo che ci dobbiamo anche porre il problema di quello che sarebbe potuto accadere e che non è accaduto. Faccio qualche cenno puramente esemplificativo e ne potrei fare molti di più. L'uccisione subito nel 1920-21 di due figure cruciali della vita politica tedesca che non lo saranno poi negli anni repubblicani che sono Walter Rathenau e Matthias Herzberg, Rathenau l'intellettuale, imprenditore, figlio del direttore generale della AEG, eh uomo importantissimo nella gestione dell'economia di guerra negli anni precedenti, grande visionario eh di quello che avrebbe potuto essere la Germania del futuro, ucciso da terroristi e nazionalisti, Matthias Herzberger, l'esponente del centrum dell'ala più di sinistra, dell'ala più socialista o sociale, diciamo così, del centrum, del partito cattolico del centrum, anche lui ucciso bravaramente nella fase caldissima dell'immediato dopoguerra da nazionalisti, da terroristi di tipo dell'estrema da un lato. Dall'altro quindi figure che non sono state, dall'altro figure che sono state, che erano importantissime, che hanno rappresentato la colonna portante della democrazia in momenti molto importanti che a un certo punto sono venute anche se meno in modo drammatico. Gustav Stresemann, l'esponente del partito popolare, la dolce Volkspartei che seppe portare la Volkspartei, cioè l'ala moderata dei liberali conservatori tedeschi dentro all'alveo del sostegno alla Repubblica, che dal 24 all'autunno del 29 fu ininterrottamente, pur nel succedersi di governi che ci scioglievano come neve al sole, ministro degli esteri, che è stato il fautore non solo dell'uscita dalla crisi prediflattiva del 23-24, ma è stato anche il fautore dell'apertura in politica estera, in particolare l'avvicinamento con la Francia, che muore improvvisamente nell'ottobre del 1929, ancora molto giovane, quando era nel pieno di una vita dinamicissima. E dall'altro figura invece che, una figura invece che, che non viene meno, che viene meno solo a Repubblica già superata di fatto, abbiamo accennato prima, il Presidente del Reich, Paul von Hindenburg. Paul von Hindenburg, anziano generale in pensione, uomo importantissimo nel corso della Prima Guerra Mondiale, generale prussiano, che nel 1925 viene eletto alla presidenza del Reich, ricordo che l'elezione si svolgeva con sistema elettorale diretto da parte di tutti i cittadini adulti, uomini e donne, per poche centinaia di migliaia di voti, di differenza rispetto al suo rivale, che era sostenuto dalla coalizione di Weimar, che era un candidato cattolico del Centrum, Wilhelm Marx, nessuna parentela con Karl, al quale viene meno nel momento del boicottaggio, il sostegno del Partito Popolare Bavarese, cioè dei cattolici bavaresi smettono di votare nel ballottaggio del 25 per il loro candidato Marx e votano improvvisamente, si spostano a votare Hindenburg. Questo fa vincere Hindenburg per qualche centinaia di migliaia di voti. Non solo, ma Hindenburg sarà rieletto nel 1932, sarà praticamente Presidente del Reich dal 25 fino alla morte nell'estate del 1934, quindi quasi per dieci anni. Un uomo molto anziano, un uomo con tratti anche di senilità, di debolezza, diciamo senile, un uomo che però aveva a un certo punto attorno a sé delle figure di consiglieri e di ispiratori che erano dei nemici della Repubblica, dei giurati nemici della Repubblica. In particolare Franz von Papen, al quale tra l'altro ha dedicato anche una biografia, una bella biografia un po' di anni fa, il collega trinchese che insegna all'Università di Pescara e vecchio amico dei tempi pescaresi. Quindi ci troviamo di fronte a che detengono ruoli cruciali oppure che smettono di detenerli per motivi di tipo casuale, incidentale. E naturalmente anche qui il gioco controfattuale, non lo faccio io, ma lo fece negli anni 80 Henry Ashby Turner, uno dei grandi storici americani, studiosi della Germania, il quale scrisse un libretto chiedendosi ma cosa sarebbe mai successo se Hitler non fosse sopravvissuto indenne a un gravissimo incidente automobilistico che subì nel 1930? Se l'ha fatto Henry Ashby Turner posso permettermi, come dire, di seguirlo anch'io. E Turner fa un gioco molto interessante, molto intelligente, chiedendosi come sarebbe l'Europa e come sarebbero i rapporti tra l'Europa e il resto del mondo se Hitler non fosse sopravvissuto e se Hitler quindi non fosse diventato dittatore. Terzo elemento di articolazione, di complessità, di sfaccettatura che io vorrei mettere in evidenza, mi sto avviando verso la conclusione, beh i ceti dirigenti, le classi dirigenti del Reich, in particolare la classe imprenditoriale e finanziaria, i vertici militari e civili della burocrazia, la classe che aveva l'egemonia nel mondo agricolo e torniamo ancora una volta al ruolo importantissimo dell'agricoltura, Paul von Hindenburg è strettamente legato al mondo agricolo e molti dei suoi consiglieri, soprattutto della fase finale, quella cruciale tra il 30 e il 33 della Repubblica di Weimar, è fortemente influenzato dai suoi vicini nei poderi d'oltreba che sono appunto i vari FON che appartengono alle antiche casate come quella del presidente von Hindenburg. Ceti dirigenti che mai davvero fino in fondo avevano sostenuto la Repubblica, che si erano adattati alla bene e meglio al dato di fatto della nuova situazione nel 1918-19, ma che tenevano come dire in serbo la carta di una soluzione alternativa e questa soluzione alternativa a loro sembrava evidentemente quella di Hitler. Non posso naturalmente non ricordare gli errori compiuti indubbiamente dalla sinistra, che in Germania era fortissima, cruciale tra questi errori, la rottura dell'alleanza, anzi l'ostilità aperta tra comunisti e socialdemocratici, che non è un'ostilità unidirezionale, i comunisti che ce l'hanno con socialdemocratici, ma che è una, come dire, una, una, uno scontro, un conflitto reciproco che ricorda per certi aspetti ciò che nel ventidue, diciamo, contrapponeva i cattolici del Partito Popolare ai socialisti, una possibile soluzione alternativa alla crisi della democrazia italiana che non c'è stata. E infine il voto dei cittadini. Il voto dei cittadini che è fortemente, è in modo crescente a favore del Partito Nazionale Socialista, ma che non è mai stato un voto maggioritario, nemmeno nel marzo del 1933, quando Hitler poteva giocare una carta, un atu importantissimo che, dal punto di vista propagandistico, l'incendio doloso del Reichstag nella notte tra il 28 e il 29 febbraio del 1983, indubbiamente da attribuirsi perché fu trovato sostanzialmente con il cerino in mano ad un figuro un po' strano che però sicuramente aveva dei collegamenti con il Partito Comunista tedesco. Quindi vedete che la situazione è molto complessa ed è molto articolata. E io la vorrei chiudere con due affermazioni un po' recise, ma che mi pare riassumono un po' la linea argomentativa che ho tentato, magari in maniera un po' confusa, di proporre. Il primo, Weimar non era destinata alla sconfitta. L'alternativa alla democrazia c'era, l'alternativa che la democrazia sopravvivesse c'era anch'essa. La capacità di resistenza della debole, debolissima, strutturalmente gracile democrazia weimariana è stata come ben noto superiore al sistema liberal democratico italiano tra il 1919 e il 1922? Assolutamente. Il secondo elemento che su cui vorrei, slogan in qualche modo, su cui vorrei chiudere era che il Sonderweg tedesco non era destinato a sfociare nella dittatura hitleriana e questo è dimostrato a contrario da ciò che è avvenuto dopo il 1945, dove stavano le risorse, le figure, le idee che dal 1945 in poi hanno fatto della Repubblica federale tedesca, parliamo almeno di quella, l'altra era sottoposta e venne sottoposta ben presto ad una nuova dittatura. Dove stavano queste figure, queste risorse, queste idee, se non nella storia tedesca stessa? Grazie della vostra attenzione. Grazie, grazie mille anche a Gustavo Corni. Mi sembra che effettivamente abbia posto un'altra prospettiva di riflessione, se da una parte appunto abbiamo visto modelli di inclusione e esclusione, dall'altra parte abbiamo visto la critica all'idea che esiste un modello di crisi della democrazia e che questo possa essere incarnato dal caso di Weimar. Come la volta scorsa, come nell'ultimo incontro, la scelta della Cisco e del comitato organizzatore di questo convegno è quello di aprire una prima parte della discussione al termine di questa sessione, quindi adesso, che sarà necessariamente contenuta dal punto di vista dei tempi, ma avremo poi la possibilità di riprendere tutti gli spunti che sicuramente rimarranno non sviluppati in questa sessione alla fine della seconda sessione, anche alla luce di ulteriori spunti che verranno dalle altre due relazioni. Quindi chiedo, io non vedo le mani qui, ma forse per un problema di visualizzazione mio, chiedo comunque a chi voglia prendere la parola di segnalarlo anche in chat, così da aprire il dibattito. Chiedo anche aiuto al supporto tecnico, eventualmente io non veda segnalazioni. Ecco, perfetto, Raffaella Baritano, prego. Grazie, innanzitutto grazie a Vinzia e al professor Corne per le loro relazioni. In realtà io volevo fare una domanda a Vinzia. Innanzitutto mi sembra che dalla sua relazione emerga in maniera molto evidente, ma credo che sia stato poi ripreso anche dal commento successivo che ha fatto Valeria De Plano, come insomma questa dicotomia inclusione-esclusione non aiuti più a comprendere il tema dell'innanzitutto presenza, non presenza o presenza differenziata delle donne nello spazio pubblico, soprattutto se facciamo riferimento poi come hai fatto tu all'inizio al ruolo che hanno avuto le donne, soprattutto bianche di classe media in contesti, penso a quello francese in maniera minore, ma quello italiano e io ovviamente penso al caso statunitense. E quindi se questo in un qualche modo ci deve indurre a un po' ripensare anche le categorie che vengono utilizzate per affrontare il tema del genere. A maggior ragione il modo in cui riprendendo anche la specifica cultura politica delle donne, che è stata il prodotto di una dinamica di lungo corso, tu non a caso hai citato il tema della cura, della vulnerabilità, questo in un qualche modo rimette in discussione un certo tipo di assunti propri del pensiero liberale e quindi di un liberalismo che è stato elemento fondativo delle democrazie, e quindi come questo in un qualche modo ci induca a ripensare oggi soprattutto il tema della democrazia. E lo dico anche in riferimento al fatto che in realtà il tema della vulnerabilità e il tema della cura, o meglio della relazione come elemento specifico, in realtà da quello che hai detto tu era dentro il dibattito politico, proprio nella contrapposizione che hai fatto tra il leader e le masse, e il modo in cui le masse vengono definite. Penso ad esempio a tutto il tema che emerge all'indomani della Prima Guerra Mondiale negli Stati Uniti, che è un tema estremamente critico rispetto alla democrazia, con figure come Walter Lippmann e altri, che riprendono le teorie elitiste o elitarie europee, e tra l'altro con l'apporto, nel caso statunitense, anche dai nuovi teorici delle public relations, in cui il tema dell'individuo è appunto fortemente rivisto dentro a quello che loro definivano il greggio e il tema delle folle simile al greggio era, insomma, erano espressioni che venivano usate in maniera evidente. È abbastanza singolare che proprio in quel periodo, cioè tra le poche voci a favore, a favore della democrazia, vi era anche quella di una social worker come Mary Parker Follett, che non a caso, insieme a John Dewey, vi propone proprio il tema della relazione, e lei lo fa a partire proprio dall'esperienza di social worker e del lavoro di comunità dentro il contesto della municipale di Boston. Grazie. Visto che non ci sono altre domande, forse chiederei a Vinzia se... Sì, 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 grazie. Volevo anche salutare Gia, che ha scritto appunto che ci si allontanava. Dunque, sì, grazie. Rispondo quindi subito a Raffaella. Grazie, Raffaella. Sono totalmente d'accordo con tutto quello che tu hai ricordato e anch'io sottolineo che Valeria prima e dopo tu avete colto un passaggio che era un po' sottotraccia, non l'avevo effettivamente esplicitato, ma insomma questo termine inclusione-esclusione mostra i suoi diritti. Ora, rispetto alla esclusione dai diritti, ci sono dei passaggi fondamentali in cui sia nel dibattito italiano che in quello francese l'esclusione, cioè la negazione di alcuni diritti è chiara e inequivocabile. Però, appunto, visto che non tutto va ricondotto al chi vota o chi non vota, chi ha il titolare di diritti e chi non è titolare di diritti nella pratica poi sociale e politica, anche se prive di una cittadinanza codificata, poi i movimenti danno dei contributi e danno dei contributi importanti allo sviluppo dei sistemi politici. Dunque, questa è questione della cura e della vulnerabilità. volevo precisare un punto. Innanzitutto, come dicevi, certamente è un punto di tensione o di contrapposizione, o se vogliamo dare dei giudizi, cosa che tendenzialmente non mi piace fare, ma insomma un limite del liberalismo. Però io ne colgo l'occasione per ribadire che se noi partiamo dalla nobile donna napoletana del 1794 e poi passiamo per Hubertino Clare e arriviamo alla tradizione delle social workers americane che dicono mutatis mutandis, insomma, secondo dei contesti, ma insomma un po' lo stesso principio. Dobbiamo sfuggire all'essenzialismo, cioè non è che lo dicono perché sono donne, cosa che appunto mi rifiuto, forse su questo siamo d'accordo, ma insomma lo voglio precisare come elemento di dibattito collettivo, ma proprio perché è la particolare costruzione sociale che spinge in una precisa direzione, nell'adottare diciamo una prospettiva differente e incredibile, come dire, almeno nella tradizione europea e europea continentale non c'è mai un riferimento da parte delle suffragiste, delle femministe all'individualismo proprietario, cioè attraverso il possesso delle cose io divento cittadina. C'è sempre un'altra via che ha a che fare con chi è il soggetto, com'è, è vulnerabile o non lo è, di cosa ha bisogno in una determinata relazione. Ma ribadisco, non perché la storia sia sempre quella, è ancora meno perché ci sia un'identità precisa, ma proprio perché per questo è proprio l'esito di una storia che è stata escludente in una maniera precisa che ho cercato appunto di deniare. È vero, guarda, se l'altro passaggio che ricordavi sul problema delle masse. Beh, insomma, senti, io l'ho considerato molto, molto interessante che proprio in un momento di crisi, crisi di fine secolo, in Francia votavano, c'erano delle femme refuse, insomma, sono cose che conosciamo benissimo. In Italia non c'era ancora il suffragio universale, cosiddetto maschile, però c'erano, come tutti sappiamo, dei forti movimenti in questo senso. Questa antropologia negativa emerge ed è interessante che è tutto ciò che la medicina aveva detto sulle donne ad essere il modello di riferimento. Scipio Sighele che dice il Parlamento è una femmina, anzi, ed è una femmina isterica. Cioè, ecco, lei che non avendo somma unità su se stessa è perfettamente manovrabile nelle mani del medico, del medico psichiatra che la porta dove vuole. Isteria che proprio segna, che mette in crisi, appunto questo secondo me è come il significato di quella stagione, mette in crisi l'unità del soggetto e il fatto che non esiste una coscienza, ma esiste una pluralità, una sfumatura all'interno del soggetto, come è l'anticamera di Freud. Io trovo interessante il fatto che appunto questi saggi di misoginia che avevano costruito le donne come esseri inferiori, eccetera, eccetera, migrano verso, come direi, e sostanziano appunto le masse. Dopodiché, però, come direi, alcune grandi questioni si riproducono e si riproducono secondo logiche su cui anche qui secondo me varrebbe la pena riflettere, cioè questa riproposizione. Da una parte il potere politico, dall'altra parte la civilizzazione. Certo, anche il mercato, a che fa, che pensiamo ovviamente a Elias, ma insomma tutta una tradizione del Sombra, tutta una tradizione enorme, la democrazia che inchioda le disuguaglianze, le contraddizioni del mercato, pensiamo al caos di oggi, ma tutto questo è un equilibrio che non prevede la civilizzazione delegata ad altri soggetti. E anche qui è un bonus enorme, ecco, un bonus enorme per i sistemi democratici. Non so, Raffaella, se ho risposto. Non la vedo, Raffaella. Mi sentite? Vedete? Perfetto. Io volevo fare una domanda ringraziando entrambi i relatori al professor Corny. Spesso, diciamo, ho ritrovato nei miei studi il paradosso di Weimar come appunto una delle giustificazioni alla necessità di un parlamentarismo efficiente e razionalizzato. E anche svolte recenti, insomma, basta pensare a quanto nel gollismo l'effetto Weimar fosse molto considerato, è stato preso come punto di riferimento. La mia curiosità è questa. Lei ritiene che siano più i, diciamo, gli aspetti, per così dire, endogeni del sistema ad aver causato la crisi, cioè appunto l'utilizzo interproporzionale, la divisione dei partiti, lo spacchettamento delle varie rappresentanze, o fosse una maggiore, una componente esogena, cioè appunto una crisi di legittimità che andava oltre il sistema istituzionale. Ecco, qual è, o quantomeno, se non c'è una risposta definitiva, qual è la relazione tra questi due aspetti? Sì, grazie. Grazie della domanda. È molto difficile, secondo me, pesare gli elementi, quasi impossibile. So che da un certo punto di vista sarebbe anche più semplice, più comodo avere la possibilità, quando si iscrive di storia, di fare le, di fare, come dire, le graduatorie, di sistemare in ordine le cose e di dare delle priorità, delle scale di priorità tra gli uni e gli altri elementi. Sarebbe più semplice, per esempio, per uno studente, sarebbe più semplice per un docente, quando fa la domanda, mi dica qual è il più, il fattore più importante? Eh, da cinque minuti, problema risolto o non risolto, esame superato. E invece ho sempre detto, ho sempre sottolineato ai miei studenti, ho fatto finta che i colleghi che mi sentivano oggi fossero ovviamente dei miei studenti, cosa che è del tutto insensata. Io ho sempre sostenuto che il metodo sia assolutamente fondamentale, quello della molteplicità, della articolazione, della plurifattorialità. E in questo, come dire, non mi scandalizza neppure, non ne ho parlato, perché volutamente, diciamo, ma non mi scandalizza neppure, ma non mi scandalizza neppure. Mi pare che si sia bloccato, non so se solo per me. Sì, non si sente. Si è bloccato per tutti. Sì, sì, non si sente. Vediamo un attimo se riesce a ripristinare. Già prima aveva qualche difficoltà, no? Avevamo notato, sì, connessione. C'è stato qualche rallentamento mentre parlava, non si è mai interrotto. È proprio saltata. Sì. Sì. Allora, direi che Tendiamo davvero due minuti, non di più. Un minuto, vediamo un attimo. Sì. Stavo pensando io di fare una domanda a entrambi. A questo punto, visto che gustavo e lo sappiamo se rientra, potremmo anche poi rimandarci eventualmente alla seconda parte del pomeriggio. Scusami, scusami Enzo, una possibilità è, se lo puoi contattare telefonicamente, di farlo proprio uscire e poi rientrare. Sì, ma credo che forse è un trucchetto più banale. Eccolo. Bene. Hai il microfono chiuso, Gustavo. Adesso lo riaccendo. Mi scuso. Sono in un luogo balneare, essendo in pensione, posso godere i luoghi balneari con mio nipotino e chiedo scusa a tutti. Qui a un certo punto è crollata la connessione. Sarò velocissima. Allora, quando l'anziano presidente Hindenburg chiede, accetta, malvolentieri, di essere candidato nel 32 della coalizione dei partiti di Weimar, questa volta, dopo che sette anni prima era stato eletto contro, sostanzialmente, la coalizione dei partiti di Weimar, come ho ricordato nella mia relazione, questa volta, e non si muove dal palazzo presidenziale, non esce mai dal palazzo presidenziale se non per fare una breve allocuzione radiofonica di pochi minuti la sera prima del voto, Hitler passa la campagna, Niente, per fortuna la rete ha retto sino alla fine della relazione, ma non regge il dibattito. A questo punto chiederei se qualcun altro vuole, o aspettiamo ancora un minuto, però se qualcun altro nel frattempo vuole fare domande. Io volevo fare solo una riflessione, ma proprio al volo, ma solo perché è emersa questa cosa anche nel dibattito e non solo negli interventi. A me non sembra, magari sbaglio, che la relazione di Vinzia sia stata, come dire, a curvata più su aspetti modellistici, tra virgolette, invece quella di Gustavo più su aspetti, come dire, di realtà storica. A me non sembra, nel senso, anzi, sono state due relazioni. Chiedo scusa, mi sono ricollegato attraverso Hotspot, chiedo scusa. Ecco, teniamo presente questo elemento, uno fra i tanti, mi scuso, ma non è colpa mia, teniamo presente questo elemento uno fra i tanti, cioè il peso che può avere una figura che possiamo anche, ci può sembrare al di là di antipatica insignificante, che però fa una campagna elettorale sull'aereo e che un giorno fa tre comizi, tiene tre comizi scendendo dal cielo, Hitler über das Himmel Deutschlands, sopra il cielo della Germania, questo era il titolo che mettevano i giornali e non il quotidiano del partito, il suo che scelte, ma i giornali a stampa normale, a stampa liberale. Ecco, quindi teniamo presente questi elementi. Quindi, dottor Menillo, mi scuso per queste interruzioni ripetute con tutti, io credo davvero che i fattori si mescolino e si giochino l'uno con l'altro in modo molto complesso e molto articolato e non sono davvero in grado di soppesarli gli uni rispetto agli altri. Mi scuso per... Ho finito di rispondere, spero che sia stato abbastanza chiaro nonostante tutto. Grazie. Non so se Enzo voleva continuare l'intervento. No, dicevo appunto che entrambe le relazioni pur diverse hanno trattato temi diversi, ma in qualche modo si intersecano bene tra di loro, perché entrambe ci parlano di quanto sia complicata la democrazia, se così posso dire banalmente, perché in fondo non ci dimentichiamo che il nostro convegno sociale Cisco è stato impiantato proprio per riflettere sugli aspetti plurimi, plurali, complicati, anche di medio e lungo periodo, della democrazia, di questo complicato cammino verso una impossibile e neppure auspicabile perfezione. Quindi la dimensione della questione femminile, della storia delle donne, ma anche la questione di Weimar come archetipo della fragilità, delle democrazia quasi deterministicamente fondata, ci hanno dimostrato entrambe le relazioni, pur ovviamente con approcci diversi, ci hanno dimostrato in quanto invece sia molto molto più complicata l'analisi della storia concreta. Tanto, e questo volevo dire a mo' di battuta, ma neppure tanto, non dimentichiamo appunto che Weimar nasce, come Gustavo ha ricordato, con una parità dei diritti civili delle donne, cioè le donne votano a Weimar, quindi dimostrando appunto che il fatto che le donne abbiano parità di diritti civili, di diritti civili non può e non necessariamente portano a una perfezione della democrazia che non esiste, cioè voglio dire la storia delle donne rientra a pieno titolo, in questo caso nella complicata storia di Weimar, che poi finisce, come sappiamo purtroppo, nel fallimento e nel nazionalsocialismo, insomma, no? Questo viene secondo me rimarcato troppo poco, il fatto che le donne erano pienamente dentro, non partecipi alla storia di Weimar, questo un po' per legare le due relazioni. Posso aggiungere Enzo? Gli studi su questo tema negli anni 30, naturalmente sono 20-30, sono agli esordi, però ci sono alcuni, ci sono stati alcuni tentativi di studiare questo aspetto, il voto femminile a Weimar, localizzati essenzialmente su alcuni ambiti territoriali, dove sono state fatte dei sondaggi che non hanno forse un valore assoluto. Tuttavia emerge abbastanza chiaramente che il voto delle donne, almeno in quegli ambiti in cui è stato possibile soppesarlo, era un voto che andava tendenzialmente ai partiti conservatori e moderati, in particolare ai partiti confessionali, quindi al partito conservatore, trascinazionale Fox Partai per i protestanti e al centrum per quanto riguarda i cattolici, quindi anche qui il voto si bilancia molto tra partiti di sostegno e partiti invece di non sostegno alla Repubblica. Grazie, sì, volevo aggiungere anch'io che siccome sono io che un po' ho fatto questa differenza, probabilmente esprimendola male, non intendevo dire che non dialogavano, mi sembra che nella prima relazione ci si confrontasse con dei modelli e si cercasse anche di ragionare in termini che puntevano assieme a varie esperienze rispetto, per metterne qui in evidenza infatto quello che poi è emerso anche da una discussione, la necessità di complicare e anche di superare alcune categorie generalizzanti, mentre nella seconda relazione c'era un caso specifico, forse portato a modello, che la relazione ha dimostrato, che modello non può essere anche perché non era scritta quella storia, non come viene raccontata. Però dialogano assolutamente. Prego, prego. No, volevo anche un po' rispondere e così entrare nella discussione e aggiungere un paio di elementi. Intanto non ho fatto in tempo ad introdurre un altro tema che invece sarebbe stato forse più dialogante, cioè quello delle donne nei partiti. E questo naturalmente, questa è anche un'altra ricerca, se volete, adesso è in corso, anche grazie ad Asinisco, sono stati pubblicati già i volumi diretti da Maurizio Ridolfi, che anche sulla democrazia, poi agita e praticata, contengono degli interventi nuovi e importanti. Però, per quanto riguarda, per esempio, tutto il periodo liberale, almeno, questo potrebbe essere anche con Raffaella un elemento di confronto, dico con Raffaella per dire con l'esperienza americana, nell'esperienza invece francese-italiana rimane un elemento di difficoltà. Le maggiori protagoniste in entrambi i paesi del suffragismo fanno un po', si avvicinano a più gruppi, la stessa mozione, prima liberale, poi si avvicina ai socialisti, ma il rapporto sarà sempre difficile. Sarà sempre difficile, lo stesso si potrei dire per la Francia, tranne per coloro che ovviamente si inseriscono e stanno dentro le dinamiche, i binari pensati e voluti dai partiti. Quindi, perché non stanno? Perché per una serie di motivi, il principale dei quali, secondo me, è il fatto che, dal punto di vista teorico, anche i partiti socialisti del tempo, teoricamente, dovevano essere quelli più vicini, al di là del voto e non voto, al di là del problema che Gustavo richiamava, riferendosi a Weimar, cioè la paura che votassero per i partiti conservatori, questo in Francia tra i radicali è la paura principale, ecco, non c'è una riflessione teorica che metta davvero insieme socialismo e ruoli di genere. Non a caso questa questione femminile, espressione che per fortuna gli studi hanno messo in soffitta, è del tutto insufficiente. Anche nelle democrazie il rapporto è complicato, perché bisogna anche sfuggire dalle due opposte rappresentazioni, come dire, donne, nei partiti in massa, totalmente a dire dai partiti, ma non bisogna, d'altra parte, negare che l'investimento andava in questa direzione, anche nel partito di Togliatti. Due questioni e finisco, proprio due battute, se posso. Io, al di là del confronto con Gustavo, ciascuno di noi, ovviamente, ha sensibilità e approcci differenti. A me piace ragionare non tanto sui modelli, ma quanto con le riflessioni teoriche, e poi parlare anche dell'ultimo scritto, dell'ultima suffragista. Quello che volevo, confrontandomi con il mito del Robinson, è sottolineare una cosa, che non c'è una storia generale, e poi una questione particolare che è la storia di genere, ma che questa storia di genere è a pieno titolo storia generale, perché altrimenti, come dire, rifacciamo gli steccati che a me sembrano veramente, veramente antiquati. Dall'altra parte, per essere così, anche, diciamo, avere un approccio critico a 360 gradi, senza nessuna remora, se penso anche ad oggi, mi sentirei di dire che questa lunga storia di esclusione alla sfera pubblica, alla democrazia, eccetera, che naturalmente è alla base di un rapporto di opacità, di difficoltà, che gruppi organizzati hanno avuto con la politica, a chiare lettere si può dire che il femminismo degli anni 70 ha avuto, come dire, a volere essere prudenti, un rapporto di diffidenza con la politica, perché avrebbe cancellato quegli elementi di originalità, di differenza, di prospettiva, e invece io penso e auspico che anche questa, diciamo, opacità venga in qualche modo superata, rimanendo saldi, rimanendo ferme, le posizioni, le opzioni, le riflessioni specifiche. Grazie, grazie anche per questo ulteriore, questo ulteriore chiarimento e anche invito in realtà a un'ulteriore complicazione della riflessione. Io chiuderò qua questa sessione in modo da poter fare una pausa e riprendere con la prossima. Ricordo comunque che tutte le domande, anche su questa sessione, possono essere fatte al termine della seconda. C'eravamo adatti mezz'ora tra una sessione e l'altra. Chiedo conferma, Enzo, se teniamo questi tempi. Sì, forse sì, più o meno mezz'ora, sono le 17.25, sì, se riusciamo a fare anche qualche minuto in meno, forse è meglio, 5.20, 5.20, 5.25, ci rivediamo, sperando che tutti ci possano, possano rimanere con noi, diciamo. Perfetto. A fra poco, dunque. Benissimo, allora forse possiamo iniziare in maniera ufficiale. Allora, buonasera, per chi non mi conosce mi chiamo Simone Bellezza e ho l'onore di moderare questa seconda parte dell'incontro di oggi del convegno nazionale della Cisco, perché facevo parte del comitato scientifico che ha organizzato questo evento. in questa seconda parte dell'incontro di oggi cercheremo di analizzare altri due degli snodi concettuali o dei, come dire, delle questioni problematiche che stanno attorno al concetto della democrazia e che noi, come avete visto, sezione dopo sezione di questa sezione dopo sezione di questo convegno abbiamo cercato di enucleare, abbiamo invitato due assoluti esperti a parlarci di appunto questi due argomenti, ricordo ai due presentatori di relazione che abbiamo deciso di darvi un tempo dell'incirca 40 minuti che dovrebbe essere abbastanza per riuscire a formulare in una maniera sufficientemente complessa e completa diciamo gli argomenti che volete proporci e poi dopo passeremo a un dibattito che ovviamente terrà conto anche della prima parte dell'incontro di oggi e quindi si potranno raccogliere domande sia più specifiche sulle relazioni di prima sia di carattere di carattere generali. Allora, a me sta anche come dire il compito di introdurre i due oratori di oggi. Questo non è difficile visto che sono entrambi molto molto conosciuti e molto conosciuti in generale come storici ovviamente anche molto conosciuti al pubblico specifico della Cisco lo farò uno per uno Antonella Saromoni come sapete è una storica della Russia e dell'Unione Sovietica è stata in tempo passato membro del direttivo della Cisco credo anche vice direttrice della vice presidentessa della Cisco ora dirige il mestiere di storico insegna all'Università di Bologna e all'Università della Calabria l'Università di Bologna insegna storia della Shoah e dei genocidi e questo è uno dei come dire filoni di ricerca che la contraddistinguono è bellissimo il suo ultimo libro Le Ceneri di Babigliar che è appunto dedicato alla memoria delle Cili di Babigliar ma direi tutta l'attività di ricerca in realtà dentro nella Salomoni ha una prospettiva di analisi più ampia che va sia che parte dalla Russia azzarista e va fino alla Russia dei giorni nostri e che è appunto riflettuto da Tolstoi fino ad oggi anche su quelle che sono le forme della politica della rappresentanza e ultimamente se non sbaglio è anche capofila di un progetto di ricerca prim che si intitola Political Cultures in the Transition from Communism to Liberal Democracies che come dire di cui in passato insomma abbiamo visto sempre su questi schermi alcuni alcuni incontri che si occupa per l'appunto di vedere come il concetto della rappresentanza della democrazia sia cambiato in paese in maniera comparata in Russia in Ucraina e in Polonia quindi abbiamo pensato che non ci fosse persona migliore di lei per parlarci di appunto di come la democrazia si è concretizzata di quali sono state le innovazioni nel concetto e di come è cambiata anche sul lungo periodo nel nel contesto russo la relazione di Antonella ha per l'appunto il titolo di rappresentare il popolo Russia Urs Russia quindi vedete c'è un ritorno che forse non è un ritorno ma vedremo ce lo dire a lei e le passo ora la parola prego Antonella allora grazie molto Simone per la presentazione grazie ai colleghi insomma consiglio scientifico di questo di questo convegno per avermi coinvolto è sempre un'occasione la considero davvero un'occasione sempre per per misurare insomma alcune riflessioni alcune ricerche che un po' faticosamente porto avanti anche nel quadro di quel prim che Simone ha appena appena ricordato cercherò di contenermi dentro ai 30 minuti non voglio abusare insomma del tempo ho cercato di tagliare rispetto alla relazione che avevo previsto perché avevo sbagliato semplicemente avevo sbagliato riguardo al tempo che era stato attribuito quindi e chiedo anche a Simone di essere molto severo perché ha un cattivo governo del schermo e del tempo quindi non riesco a governare il tempo sullo schermo questo è un problema che peraltro Gavio conosce bene per una cosa fatta insieme allora negli ultimi due decenni parto subito dicendo che a differenza di Vinzia partirò dal presente un po' perché è la ricerca che è in corso con dei colleghi Adriano Rocucci è qui presente condividiamo questa ricerca insieme quindi parto dal tempo presente quindi è il tempo presente che mi fa interrogare sul concetto di democrazia sul concetto neanche tanto sul concetto anche sulla riflessione sul dibattito intorno alla democrazia in territorio russo su un periodo più lungo e quindi partirò da questa prima constatazione che negli ultimi due decenni soprattutto gli ultimi due decenni potremmo dire tre decenni ma direi soprattutto gli ultimi due decenni una grande varietà di definizioni è stata usata per rappresentare il sistema politico sviluppatosi in Russia dopo il 1991 e si è soprattutto parlato di una democrazia soggetta a continue alterazioni dei principi liberal democratici che caratterizzano il modello politico classico alterazioni che hanno comportato fra le altre cose a partire dagli anni 2000 l'indebolimento della corte costituzionale l'epurazione del sistema giudiziario la limitazione delle prerogative parlamentari e la manipolazione del sistema elettorale la restrizione degli spazi di opposizione un controllo sempre più capillare dei mezzi di comunicazione fino ad arrivare alla più recente revisione costituzionale e già nei primi anni quindi un dibattito molto ampio che si è sviluppato e qui ricorderò un frammento di questo dibattito vale a dire che nei primi anni del nostro secolo lo scienziato politico russo Dmitry Furman aveva introdotto il concetto di democrazia per imitazione per definire quei modelli che applicati in contesti in cui una società non è matura per la democrazia ma si trova priva di valide alternative sono contraddistinti da una forte disparità tra principi costituzionali formali e realtà di un governo autoritario quindi l'idea di un modello imitativo di democrazia per un regime che pur fondato su regolari procedure elettorali e su altre istituzioni di stampo liberale importa un linguaggio democratico come strategia di riconoscimento questa idea ha avuto larga fortuna in occidente proprio per spiegare un ampio ventaglio di pratiche di governo che dopo l'89 avrebbero caratterizzato la filosofia politica del post comunismo e dunque la risposta illiberale si sarebbe dunque configurata come una sorta di reazione all'imperativo della imitazione e alla perdita di sovranità che l'adattamento ai canoni occidentali avrebbe comportato come vedete ci sono insomma degli avrebbe dei condizionali ma perché non ho ancora una idea precisa intorno a queste per questo che utilizzo il condizionale e nel mio intervento non mi soffermerò per esteso sul concetto di democrazia sorrana proposto nel 2005 da Vladislav Surkov allora vice direttore dell'amministrazione presidenziale della federazione russa un sintagma coniato come una sorta di contrappeso alla formula della democrazia guidata che era stata utilizzata in Russia a partire dai primi anni 2000 con un'accezione positiva per sostenere la necessità di combinare in modo strumentale elementi democratici e elementi autoritari e quindi non mi soffermerò su questo concetto lo richiamo lo richiamerò solo molto rapidamente l'ho già fatto altrove peraltro proprio con l'aiuto dei colleghi con i quali condivido la ricerca primo fra tutti Adriano qui riprenderò solo alcuni elementi di quella riflessione e mi limito a ricordare in piave molto sintetica che con la nozione di democrazia sovrana si voleva soprattutto sottolineare che per realizzare una democrazia a tutti gli effetti è indispensabile uno Stato con un alto livello di sovranità e per converso solo una piena democrazia può garantire la sovranità dello Stato è una vera e propria sintesi è davvero una sintesi molto molto radicale si è spesso affermato che questa concezione fosse priva di contenuto il concetto di democrazia sovrana non deve però a mio avviso essere considerato con sufficienza perché conteneva e forse ancora contiene un modello culturale politico fondato sulla ipertrofia funzionale allo sviluppo del ruolo delle elite quindi un modello capace di dare spazio adeguato alle domande di operatività senza passare attraverso le regole imposte dalla democrazia liberale tant'è vero che l'idea di democrazia sovrana pur riformulata adattata sfumata nel corso degli anni ancora influisce sulle politiche nazionali e internazionali del governo putiniano condizionandone anche la giurisprudenza e la concezione la stessa concezione dei diritti umani il primo elemento che vorrei portare alla vostra attenzione è quanto il nuovo corso promosso negli ultimi anni in Russia sia stato avviato alla luce di una rivisitazione del passato non parlerò mai di uso politico della storia un termine che assolutamente non utilizzo quindi una rivisitazione del passato nel quadro di una vera e propria strategia patrimonialista della storia russa e si potrebbero utilmente richiamare in proposito molti pronunciamenti pubblici di Putin e dei suoi principali consiglieri una fonte a mio avviso molto utile anche per lo storico che hanno avuto l'obiettivo di collocare la civiltà russa nel quadro di sviluppo di quella europea con la quale essa condividerebbe la ricerca del progresso materiale della libertà della giustizia individuando tutta una serie di parallelismi e convergenze ma al tempo stesso anche degli specifici tratti nazionali riprendo brevemente a titolo solo esemplificativo un intervento pronunciato da Putin in occasione del summit di Bratislava con Bush con George Bush nel febbraio del 2005 che ebbe tra i suoi argomenti centrali anche la forma della democrazia in Russia durante la conferenza stampa congiunta dopo aver sottolineato la stretta cooperazione nella lotta contro il terrorismo gli sforzi comuni a favore della non proliferazione di armamenti e tecnologie nucleari la disponibilità a rafforzare gli accordi economici bilaterali eccetera Putin dava una valutazione che resterà un punto fermo in tutto il successivo dibattito interno e per questo che ho scelto questo testo non vi era a suo avviso in Russia alcuna intenzione di promuovere una democrazia sui generi utilizzo ampiamente il testo lo cito ampiamente al contrario l'impegno era a rispettarne i principi fondamentali già affermati sia a livello globale non di meno continuava Putin occorreva adeguare idee istituzioni regole all'attuale sviluppo della società russa sto citando della nostra storia e delle nostre tradizioni e in questo aggiungeva non vi era nulla di insolito visto che ogni paese traduce in modo diverso l'esperienza democratica al contempo era necessario evitare che l'innesto questo è un termine di Putin dei principi e delle norme della democrazia fosse accompagnato dal collasso dello Stato e dal depauperamento della popolazione in altri termini non bisognava compromettere l'idea stessa di democrazia parole di Putin ma al contrario consolidare la statualità e migliorare la vita dei cittadini quindi peraltro c'è anche molta attenzione al problema del depauperamento della popolazione del miglioramento della vita dei cittadini questa posizione sarà riaffermata pochi mesi dopo in un famoso messaggio annuale rivolto all'Assemblea federale della federazione russa dell'aprile del 2005 che fissa come principale compito politico ideologico del tempo presente lo sviluppo della Russia come stato libero e democratico volendo trovare anche qui cito Putin una rifrazione pratica di nozioni spesso evocate ma più di rado ben comprese quali libertà e democrazia giustizia e legalità Putin sostanzialmente contestava qui l'idea di una sorta di estranetà secolare del popolo russo riguarda questi valori e per darne dimostrazione proponeva un'analisi della più recente storia del paese in primo luogo questo è un messaggio alla nazione molto molto famoso molto citato in primo luogo definiva la fine dell'Unione Sovietica come la più grande catastrofe geopolitica del secolo tramutatasi per il popolo in un vero dramma con decine di milioni di concittadini e compatrioti che si erano trovati al di fuori del territorio russo poi indicava un percorso di discontinuità rispetto a chi riteneva che la giovane democrazia non fosse il prolungamento della statualità russa ma solo il suo definitivo crollo il protrarsi dell'agonia del sistema sovietico e la sua proposta era di trovare l'attenzione di spostare scusate l'attenzione da una energia di autoconservazione alla difesa della sovranità statale e individuare un nuovo vettore nello sviluppo di una storia millenaria dunque occorreva impegnarsi nel preservare i propri valori non dissipare risultati indiscutibili riaffermare la vitalità della democrazia russa in altri termini trovare una propria strada sono parole sempre di Putin nella costruzione di una società e di uno stato democratico la conservazione del patrimonio di statualità comportava per conseguenza il rigetto di qualsiasi forma di democrazia per imitazione non solo dice Putin la Russia era è e sarà certamente la più grande nazione europea ma era anche un paese che insieme alle altre nazioni europee aveva attraversato nel corso di tre secoli le riforme dell'illuminismo le difficoltà dell'affermazione del parlamentarismo del potere municipale giudiziario la formazione di sistemi giudici simili un paese che si era mosso verso il riconoscimento e l'allargamento dei diritti umani il suffragio paritario universale la comprensione della necessità di prendersi cura dei poveri dei deboli l'emancipazione delle donne e altre conquiste sociali tutto ciò era venuto di concerto talvolta un po' indietro dice Putin talvolta più avanti rispetto agli standard europei dunque un messaggio del 25 aprile 2005 questo schema di sintesi che viene prontamente messo in circolazione partecipava ad una revisione sovranista della storia fondata nella più totale indifferenza al significato della parola democrazia nella cultura politica del paese sull'assunto che la tradizione democratica non era qualcosa di importato dall'esterno ma un valore scaturito in modo naturale e in un determinato momento storico sviluppatosi di pari passo con altri due valori altrettanto significativi sto sempre citando questo messaggio nella coscienza pubblica la libertà comprensiva dell'indipendenza della sovranità e la giustizia a partire da questo momento diventerà norma richiamarsi a uno specifico passaggio del discorso putiniano che è un refrain continuo cito la Russia è un paese che ha scelto da sé la democrazia per volontà del proprio popolo ha intrapreso da sola questa strada e osservando tutte le norme democratiche generalmente accettate deciderà da sola tenuto conto delle sue specificità storiche geopolitiche e di altro tipo come garantire l'attuazione dei principi di libertà e democrazia in quanto paese sovrano la Russia è in grado e lo farà in modo autonomo di definire sia i termini che le condizioni in base alle quali seguirà questo percorso ritroviamo peraltro questa stessa formulazione nel programma elettorale del partito di maggioranza parlamentare Russia Unita che viene adottato il primo ottobre del 2007 dove si scrive fra le altre cose nell'attuare la strategia di rinnovamento qualitativo del paese sui principi della democrazia sovrana procediamo dal diritto inalienabile del libero popolo russo a determinare in modo indipendente il proprio destino storico a disporre del patrimonio nazionale nell'interesse dell'intera nazione e di ogni cittadino il documento si riferisce ormai alla Russia come ad una civiltà unica è un termine ben presente nel dibattito politico e anche storico contemporaneo il cui sviluppo comportava la protezione di uno spazio culturale comune della lingua russa delle tradizioni storiche era peraltro in questo programma adottato ufficialmente il termine protoslavo zierjava grande potenza per denominare lo Stato in un contesto positivo si è scritto che vi è in questo schema della democrazia sovrana una sorta di miscela del razionalismo politico e antipopulismo di François Guizot del decisionismo e antipluralismo di Karl Schmitt la cui ricezione è stata piuttosto ampia negli ultimi anni in Russia ne emergerebbe la ricerca di soluzioni che impediscano lo Stato di trasformarsi seguendo l'evoluzione comune alla tradizione liberale in una istituzione fra le tante una sorta di lotta contro la relativizzazione dello Stato costretto ad avviare negoziati a concludere accordi formali o informali con altre istanze che rivendicano uno status politico la cosiddetta filosofia politica di Putin sarebbe dunque un coerente tentativo di sottrarre la forma Stato alla funzione arbitrale tra gruppi di interesse in conflitto attraverso una complessa opera di ricentralizzazione e sebbene nel 2015 quindi di recente siano state avviate iniziative per una riformulazione della democrazia sovrana nel contesto dei cambiamenti a cui era soggetto in quel momento il sistema politico resi molto evidenti dal ciclo elettorale del 2016 e 2018 l'idea centrale è rimasta sostanzialmente la stessa vale a dire che la Russia segue un percorso unico e originale di democrazia ora non posso ripercorrere la storia a mio avviso molto complessa dei progressivi prelievi e innesti di frammenti dal passato che vanno a definire questa concezione di democrazia e sostanzialmente è questa la ricerca in corso ed è una ricerca difficile lo dico in modo molto franco ciò avviene a mio avviso sulla base di tre percorsi concomitanti da un lato prima di tutto a partire dall'idea di sovranità in uno stato fondato sul potere autocratico o di sovranità del popolo nel pensiero politico conservatore del diciannovesimo secolo secondo a partire dalla idea di sovranità nello stato transitorio verso la costituente dopo la rivoluzione di febbraio e terzo a partire dall'idea di sovranità nello stato sovietico in cui il demos che si aggiunge al kratos è solo una parte del popolo mi limiterò qui ad alcuni esempi tratti dal dibattito pre-rivoluzionario rivoluzionario e o post-rivoluzionario sulla democrazia alcuni esempi insomma è davvero una ricerca in corso quindi sono dei veri e propri frammenti sono degli esempi molto noti soprattutto lo faccio per richiamare la disparità di posizioni sul lungo periodo della storia russa e sovietica cosa che a sua volta si riflette dopo il 1991 in una caotica riappropriazione o estromissione che rende difficile ricostruire la trama dei prelievi in una combinazione di elementi di progresso e di conservazione di democrazia e di autoritarismo le differenze o divergenze nell'interpretazione dell'ideale democratico da parte delle diverse correnti liberali e democratico rivoluzionari e della teoria politica occidentale non potevano non essere riproposte nelle correnti liberali e radicali del pensiero politico russo a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo e da teorici la cui visione del mondo si era formata negli ambienti hegeliani positivisti anarchici e marxisti emergono fra tutti i rappresentanti della cosiddetta scuola statale seguaci delle idee del liberalismo occidentale fra gli altri Baris Cicerin Konstantin Kavielin Vasili Sergeyevich nell'adattamento delle versioni liberali occidentali alla realtà russa uno dei leader della scuola statale che è stato oggetto di una profonda rilettura meglio direi di una profonda riscoperta dopo il 1991 è stato Baris Cicerin autore di una famosa formula misure liberali e potere forte in sintesi ciò significava che l'ordinamento giuridico dello Stato doveva tutelare al tempo stesso limitare la libertà individuale la legge sosteneva Cicerin è inseparabile dalla libertà e queste sono le sue parole cito un frammento la legge determina i confini della libertà personale e quindi non dovrebbe occuparsi degli obiettivi morali o utilitaristici dell'attività delle persone dovrebbe definire come le norme di questa restrizione vadano osservate dagli individui liberi su tale base Cicerin sviluppa l'idea di una graduale riforma dall'alto dell'autocrazia in una monarchia costituzionale Pavel Miljukov un altro importante esponente del pensiero politico è uno storico di formazione del primo novecento e anche insomma della seconda della prima metà del novecento leader del partito cadetto ha descritto i tentativi di portare a compimento questo progetto definendo così l'allineamento delle forze politiche nella terza Duma di Stato la terza Duma di Stato 1907 1912 è l'unica Duma che resta in carica per tutto il suo mandato cito Miljukov è importante pensatore liberale se combattevamo contro il diritto autocratico a favore del diritto costituzionale scrive Miljukov allora non potevamo fare a meno di essere consapevoli che in questa lotta contro di noi vi era anche un altro nemico il diritto rivoluzionario e non potevamo per commissione per coscienza non ritenere che la stessa parola diritto appartenesse solo a noi è evidente da queste parole che i liberali russi pochi anni prima della rivoluzione del 1917 individuarono il loro avversario nel diritto rivoluzionario o in altre parole in una concezione radicale della legge e del diritto nella tradizione stabilita da Jean-Jacques Rousseau è interessante che in questo stesso periodo storico tra le due rivoluzioni russe del 5 e del 17 nella sociologia occidentale compaiono delle caratterizzazioni del costituzionalismo russo del 1906 come un pseudo costituzionalismo è l'espressione di Max Weber che in seguito definirà la rivoluzione di febbraio del 17 come una pseudo democrazia ma queste critiche furono superate dalla ben più radicale critica rivolta al liberalismo da Lenin il quale sviluppa l'idea democratico rivoluzionaria della democrazia dal punto di vista marxista ora la costruzione teorica del concetto Leniniana del concetto di democrazia derivava come noto da un approccio storico materialista allo Stato come forma transitoria di governo politico della società il potere statale sorge e funziona in una fase ben definita della dinamica sociale segnata dalla comparsa della divisione del lavoro dall'instaurazione della proprietà privata dalla formazione di classi con interessi inconciliabili in relazione alla stessa proprietà la distribuzione al potere come prodotto di tale inconciliabilità sono tutte cose nuote ma le riprendo per costruire il mio percorso Lenin vede anche lo Stato il quale non potendo sanare contraddizioni antagonistiche esprime attraverso il suo apparato gli interessi e la volontà delle classi dominanti o sfruttatici che possono realizzarsi solo tramite l'uso sistematico della violenza l'adozione di un approccio di classe permetteva a Lenin di intendere la forma democratica del potere non come democrazia in generale ma come la democrazia per una determinata classe i soviet incarnando l'unità del potere rappresentativo ed esecutivo sono la democrazia diretta per le classi sfruttate del proletariato vittoriose nella lotta rivoluzionaria e allo stesso tempo rappresentano la dittatura per le classi sfruttatici come sostiene Lenin riferendosi ai primi congressi panrussi dei soviet degli operai e dei soldati questi rappresentavano la democrazia cito Lenin per la stragrande maggioranza della popolazione russa e di conseguenza una dittatura per la minoranza ovvero la borghesia e i proprietari terrieri tale costruzione concettuale porta logicamente a definire la democrazia proletaria in quanto dittatura come restrizione e distruzione delle classi deposte o come violenza non vincolata ad alcuna legge anche qui richiamo insomma delle parole dello stesso Lenin e in questo atteggiamento come la storia ci ha dimostrato c'era un pericolo reale per la trasformazione della democrazia proletaria in tirania una terza variante più o meno coeva di comprensione e definizione della democrazia quindi ho diciamo selezionato scelto tre esempi diversi fra di loro è proposta dal filosofo Fyodor Stiepun testimone degli eventi rivoluzionari e espulso dalla Russia nel 1922 in una famosa espulsione di una parte dei ceti intellettuali nella sua percezione l'epoca che segue la prima guerra mondiale radicalmente diversa dal XIX secolo unendo in sé ateismo e fede totale violenza e sacrificio ostilità allo spirito ispirazione e di conseguenza il potere che Lenin aveva definito democrazia proletaria è chiamato da Stiepun ideocrazia bolshevica nei contenuti e sistema democratico unilaterale o democrazia totalitaria nella forma ho preso dei frammenti da vari testi di Stiepun all'opposto troviamo la democrazia liberale come il suo parlamentarismo per la quale Stiepun manifesta la sua predilezione al tempo stesso distingue liberalismo e democrazia secondo un criterio di orientamento potremmo dire valoriale normativo poiché vede nella libertà l'idea centrale del liberalismo e nell'uguaglianza l'idea centrale della democrazia a tal proposito sono di grande interesse sono cose che ho letto da poco tempo le sue osservazioni sul mancato incontro tra liberalismo e democrazia a causa di un dissidio quello che lui chiama un dissidio che ritiene quasi insanabile fra l'idea borghese della libertà e la richiesta proletaria di uguaglianza ora queste definizioni interpretazioni del liberalismo e della democrazia proposte nel quadro di correnti del tutto divergenti della filosofia politica russa erano naturalmente riflesso dello spirito del tempo che si trattasse della fase pre-rivoluzionaria Cicerin rivoluzionaria diciamo intorno al 5 è il caso di Miljukov è il caso di molti altri autori opposta rivoluzionaria come nel caso di Stiepun il problema è che nel dibattito pubblico nella Russia contemporanea il cui vettore politico ha preso forma nelle condizioni di metamorfosi globale del liberalismo essi hanno acquisito o stanno acquisendo un significato eterno e soprattutto sono serviti a declinare una sorta di via peculiare della Russia c'è un grande dibattito sul Zonderbeg russo definito spesso invenzione russa la pridunca russa un'esperienza dunque unica sconosciuta a qualsiasi altro paese e cancellata sostengono gli maggiori esponenti di questo dibattito dai manuali di storia in epoca sovietica con l'ottobre del 17 al proletariato urbano e rurale e qui vengo un po' la diciamo all'ultimo elemento di queste riflessioni un po' sparse e un po' caotiche con l'ottobre del 17 al proletariato urbano e rurale ai contadini e ai soldati viene conferita sovranità a livello legislativo i primi documenti del secondo congresso parrusso dei deputati degli operai dei soldati così come la costituzione del 1918 affermarono il conferimento di potere a tutti i lavoratori sotto la guida della nuova elite politica si potrebbe pensare che il dibattito sulle forme della democrazia si esaurisca a partire da questo momento nella reiterazione di discorsi riguardanti il potere dei soviet simili ad esempio a quelli formulati in classici quali l'abc del comunismo di Nicolai Bukharin e di Geni Preobrasensky dove cito le forme della vecchia democrazia borghese sono interpretate come uno strumento adottato per ingannare in modo sistematico le masse e per contro la forma sovietica dello Stato è identificata nell'autogoverno delle masse in verità il tema della democrazia nelle condizioni del socialismo sovietico è più complesso comprende l'analisi del consolidamento del principio di sovranità popolare nelle costituzioni sovietiche e nella legislazione vigente lo studio dei rapporti interni fra Stato e istituzioni pubbliche e il loro ruolo nella regolazione giuridica dei rapporti di supremazia e sovranità del popolo nonché lo studio delle forme di democrazia diretta è un campo discorsivo molto ampio che sembra essere di pertinenza almeno questa è la mia percezione e sottolineo ancora che è una ricerca in corso sembra essere di pertinenza soprattutto del pensiero giuridico come dimostra una costellazione di studi che vanno dalle opere di Jakov Magasiniar 1919-1922 di Ilya Trainin 1938-1941 di Josif Lievin autore nel 48 di una importante monografia sul tema della sovranità riedita peraltro anche riedita negli anni 2000 questi autori sono soprattutto i principali responsabili della riduzione della democrazia e qui non l'ho detto nel suo doppio sostantivo russo perché in Russia ci sono due termini per dire democrazia narodoblastie e democrazia che significano esattamente la stessa cosa e dunque responsabili della riduzione della democrazia in una teoria del potere sovrano il tema della sovranità popolare infatti una problematica centrale nelle opere dei giuristi sovietici a partire proprio da Jakov Magasigner studioso oggetto di una grande riscoperta proprio negli ultimi due decenni nello studiare la volontà popolare nel regime della rappresentanza e il potere sovrano Magasigner sottolineava ad esempio come fosse stato l'accumulo di elementi di democrazia a indebolire il parlamentarismo così come un tempo era avvenuto di fronte ai tentativi assolutistici della corona perché e lo sto citando il parlamentarismo non sempre si basa sulla democrazia idealmente il sistema statale doveva dunque essere espressione ampia e diretta della volontà del popolo rimandando alla costituzione del 18 Magasigner mostrava le peculiarità dell'organizzazione di nuove istituzioni di potere o i metodi della loro formazione analizzava nel dettaglio la questione della revoca dei deputati letti e così via in definitiva si tratta di un'analisi che rappresenta oggi una fonte preziosa per studiare questi testi sono soprattutto delle lezioni delle lezioni universitari dei corsi universitari quindi una fonte preziosa per studiare la trasformazione del potere supremo nel momento in cui la sovranità viene interamente affidata al congresso dei Soviet le opere principali di Magasigner come dicevo sono pubblicate fra il 19 e il 22 ci invitano soprattutto a non sottovalutare il dibattito intorno alla questione della sovranità ovvero della sovranità popolare nelle condizioni della dittatura della classe operaia se vogliamo comprendere come si modifica nelle condizioni sovietiche lo stesso concetto di popolo che acquisisce un diverso significato cito un popolo senza sfruttatori dove i diritti dei cittadini non sono solo proclamati ma anche garantiti questo lo scrive in un saggio del 38 dal titolo sulla questione della sovranità il giurista Ilya Trainin un personaggio importante del suo tempo pur in tutta la sua tendenziosità ideologica e questo lo diamo per scontato Trainin fondava una interpretazione della sovranità a base economica che ritroviamo oggi con una serie di rimandi interni a mio avviso molto interessanti alla storia sovietica e una serie di dipendenze sulle quali occorre davvero avviare una ricerca mi limito infine a segnalare in conclusione che il Cremlino non ragiona oggi in termini di diritti dei cittadini ma in termini di bisogni della popolazione il concetto di popolazione è nella sua strategia spesso in opposizione sia alla nozione che si trova alla base del progetto liberal democratico sia alla nozione di popolo che al cuore di diversi progetti nazionalisti ciò che pare sempre più al centro della politica puttiniana è la governamentalità come emerge anche dalla recente riforma costituzionale che ha tra i suoi punti cruciali come ha scritto brillantemente Angela Di Gregorio una delle maggiori giuriste italiane interprete filologicamente in modo filologico del testo di revisione costituzionale scrive Angela Di Gregorio competenze e rapporti reciproci dei principali organi costituzionali presidente premier governo camere sistema in senso lato dei contropoteri giudici procuratori poteri regionali e locali elementi identitari e questa è una grande novità nel contesto odierno lingua cultura religione ruolo storico del paese erede dell'URS famiglia infanzia sovranitari elementi sovranitari sovranitari rapporto con organizzazioni diritto internazionale requisiti per chi detiene cariche pubbliche divieto di alienazione di parti del territorio e infine elementi sociali salario minimo indicizzazione delle pensioni volontariato eccetera proprio l'inserimento di elementi fortemente identitari valoriali normativi e sovranitari in quel testo sopravvissuti per così dire a tutte le peripezie della transizione come anche risalto conferito alla questione sociale spinge a mio avviso a interrogarsi ulteriormente sul ruolo che la governamentalità assume nelle pratiche pubbliche contemporanee in Russia nonché sul peso e questo è il compito dello storico delle eredità che il passato trasmette ai nuovi attori politici condizionandone metodi e saperi spero di essere rimasta nei tempi e non sono riuscita a controllarlo vi ringrazio per la pazienza faccio io i complimenti ad Antonella Salmoni perché è stata pressoché perfetta nel rispettare il limite di tempo che si era autoimposta anche se in realtà avrebbe avuto anche qualche minuto in più e la ringrazio anche per questa relazione veramente molto interessante che come dire tira in ballo un sacco di come dire di concetti in più rispetto a quelli che abbiamo trattato fino adesso e che allo stesso tempo mi sembra in un certo senso sono anche legati nel senso che mi pare che venga un po' anche dalle discussioni precedenti di oggi venga fuori questo nodo della democrazia nominale e sostanziale questa attenzione per i bisogni Vinzia Forino ci ha parlato prima della nascita del welfare star del contributo femminile diciamo a questo lato della concretizzazione della democrazia e parlando io pensavo sempre quando Gustavo Corni parlava prima di democrazia in Germania del fatto che Bismarck non era un gatto democratico però per esempio sul welfare state ha fatto molto e sui bisogni quindi in realtà c'è mi pare che emerga anche se magari non intenzionalmente un tema comune sul quale potremmo vedere ma in realtà avrei tantissime cose da chiedere ad Antonella ma le lasciamo per il dopo ovviamente e passerei adesso a introdurvi il secondo dei nostri presentatori di oggi che è Agostino Giovagnoli che spero sia anche collegato e che possa sì perché lo vedo possa intervenire adesso buonasera allora anche Agostino Giovagnoli ovviamente non è figura come dire sconosciuta al pubblico della Sischio tant'è che è stato presidente della Sischio per un intero mandato insegna storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Core di Milano ed è stato scelto dal Comitato Scientifico proprio perché direi in tutta la sua produzione che è dedicata soprattutto a parlare appunto di democrazia e di Chiesa Cattolica in Italia c'è questa tensione continua a vedere come in diversi momenti in diversi periodi in diversi ambiti politici per l'appunto il rapporto fra l'impegno politico la forma partito le forme di democrazia e dall'altra parte la storia della Chiesa Cattolica e delle sue evoluzioni anche nell'ultimo libro quello sul 68 la festa della contestazione c'è una parte appunto su come il concilio Vaticano II eccetera ha cambiato quel tipo di militanza politica ed è quindi per questo che noi gli abbiamo chiesto di parlarci di questo tema che è uno di quelli forse centrali e che anche questo insomma è riaffiorato in alcune delle relazioni precedenti ma che non abbiamo mai affrontato d'impatto opina che è appunto quello anche titolo di questa relazione che forse abbiamo un po' imposto democrazie e religioni quindi lo ringrazio di aver accettato questo nostro invito il tempo è sempre il solito siamo fra i 30 e i 40 minuti prego grazie dell'invito attualmente io mi scuso in anticipo se ci sarà qualche problema tecnico ma l'area in cui mi trovo ha avuto oggi alcuni sbalzi di energia elettrica d'altra parte sono in una delle zone più periferiche del paese che si chiama Roma e quindi queste cose possono accadere ma mi sono premurato di avere anche un cellulare a disposizione nel caso ci siano appunto inconvenienti di questo tipo io ho ascoltato non tutta ma buona parte delle relazioni che si sono svolte fino adesso anche nei giorni scorsi e questo mi porta a iniziare da un richiamo anzitutto all'alexio magistrale diciamo così introduttiva di Salvatore Vecca che tra le altre cose si è interrogato su crisi della democrazia e o crisi nella democrazia mi è sembrato che Vecca provendesse per questa seconda ipotesi per illustrare alcuni dei problemi che sono oggi emergenti laddove io provenderei piuttosto nel vedere invece una crisi della democrazia ma in ogni caso Vecca ha detto una cosa molto importante su cui ovviamente sono del tutto d'accordo cioè che dietro questa crisi che attualmente investe la democrazia c'è anche una più profonda crisi dello Stato e mi permetterei di aggiungere un po' di tutte le istituzioni per usare le sue parole la democrazia è nata da una crisi quella del controllo politico dall'alto cui ha risposto alla democrazia con una ricomposizione del controllo politico dal basso lo Stato così è cambiato radicalmente diventando democratico oggi però è in discussione la tendenza stessa a realizzare un controllo politico unitario che sia autoritario democratico su dinamiche sociali che sono sempre più complesse ecco vorrei inserire la mia riflessione su religioni e democrazia proprio in questo contesto perché è un contesto quello della crisi della democrazia prima ancora dello Stato che certamente interpella anche in modo particolare le religioni e spero di poterlo spiegare soprattutto nella parte finale della mia relazione premetto che il tema che mi è stato affidato è amplissimo praticamente sconfinato e quindi dovendo procedere in modo sintetico e schematico temo di dire alcune cose che sono molto note a molti di voi e in altri in altri casi invece di fare affermazioni tutte da dimostrare senza avere neanche il tempo di argomentarle quindi mi scuso per entrambe queste ipotesi scusate per questi rischi che sono consapevoli di correre vorrei partire da una raccomandazione che è stata espressa più volte dagli organizzatori di questo convegno cioè di tenere in considerazione una prospettiva ampia una prospettiva di world history da questo punto di vista va premesso che religioni e democrazia non sono invenzioni occidentali riguardo ciò che intendiamo quando parliamo di religioni è evidente l'origine non occidentale di zorastrismo ebraismo islam buddismo induismo shinto e tanto altro peraltro anche il cristianesimo non ha origini occidentali considerazioni in parte analoghe ma ovviamente anche se il discorso sarebbe lungo valgono anche per la democrazia mi limito qui a richiamare soltanto le acute osservazioni di Amartya Senna sul carattere non esclusivamente occidentale delle pratiche democratiche tutto questo porta a concludere che è praticamente impossibile definire in modo univoco sia che cosa è la religione sia che cosa è la democrazia della parola religione addirittura non conosciamo neanche l'esatta etimologia e le sue definizioni variano moltissimo secondo i tempi e i contesti anche al termine democrazia come sapete bene è stato appena richiamato sono stati attribuiti molti significati diversi non so neanche a ricordarli e anche in questo caso per intendersi sulla parola democrazia bisogna sempre avere presente il contesto geografico e storico di cui stiamo parlando però dirò seppure in termini un po' transcian che i significati prevalenti di queste parole sono ancora oggi quelli radicati nel contesto della storia occidentale moderna e contemporanea e questa è un'affermazione che mi sento di dire cercherò brevemente di argomentarla è un'affermazione che non vale solo per il mondo occidentale in altre parole in età moderne e contemporanee Europa e Stati Uniti hanno diffuso nel mondo un'idea di religione modellata principalmente sul cristianesimo in particolare sul cristianesimo occidentale quest'idea ha incontrato molte resistenze specie in contesti non occidentali come è ovvio ma è stata largamente accettata nel linguaggio internazionale con influenza anche sulla stessa autocoscienza dei credenti e ad essa si sono ispirati per esempio anche gli studi di scienze sociali che molti studi di scienze sociali che hanno trattato i fenomeni religiosi sulla base di tale modello la parola religione viene ancora oggi usata non so per quanto tempo anche per indicare sistemi di credenze molto lontani dal cristianesimo fino a includere forme di spiritualità prive di riferimento al divino come è noto come nel caso di alcune correnti del buddismo qui faccio solo il caso cinese nel linguaggio cinese tradizionale non esiste una parola equivalente a religione come non esiste una parola equivalente la filosofia ma nei primi decenni del novecento proprio sotto l'influenza occidentale in Cina si discusse molto di religioni e di religione prendendo a modello soprattutto il cristianesimo protestante dove il crollo dell'impero con il movimento del 4 maggio nel 1919 venne respinta l'idea di riconoscere una religione di stato il confucianesimo tuttavia da allora in Cina si è continuata a parlare di religione nel senso occidentale del termine anche in sede politica e legislativa persino per indicare daoismo buddismo islam e naturalmente cattolicesimo protestantesimo eccetera la parola è rimasta in uso anche con l'avvento della Repubblica Popolare Cinese la cui costituzione stabilisce il principio di libertà religiosa applicato ovviamente in termini che possono molto far discutere ma comunque assumendo ancora una volta il significato occidentale accendo molto brevemente che il caso cinese non è affatto isolato e cito solo l'esempio della Turchia che è malista che si è ispirata poi modificandolo al modello della laicite francese e quindi indirettamente all'idea di religione prevalente nella Francia tra fine ottocento inizio ottocento novecento ma il riferimento alla Turchia mi è utile per anticipare che tutto questo è oggi molto in discussione e lo mostra proprio la tendenza della Turchia attuale verso un neottomanesimo a sfondo islamico anche per quanto riguarda la democrazia c'è un uso ancora prevalentemente di tipo occidentale infatti si usa molto spesso questo termine facendo riferimento alla democrazia rappresentativa adottata da una serie di stati occidentali cioè un modello politico istituzionale che dall'occidente si è poi diffuso in altre parti del mondo e tuttavia come sappiamo proprio il punto della rappresentanza è oggi fortemente in discussione ed è uno dei motivi per cui si parla di crisi della democrazia proverò a brevemente esplicitare che cosa intendo con il tipo di religione che ha accompagnato l'affermazione dello stato moderno in occidente e nel mondo che direi per usare un'espressione molto sintetica che è ovviamente discutibile proverò a chiamare religione occidentale non intendendo ovviamente una religione in particolare ma intendendo un modello di religione che appunto si è diffuso per secoli insomma fino a l'ultimo ed è quello che è cominciato ad emergere in Europa tra fine e medioevo inizio dell'età moderna che si è manifestato nella diffusione della devozio moderna e che come è noto ha avuto alcuni suoi caratteri cruciali fissati dalla riforma luterana da una parte dalla contoriforma o riforma cattolica come vogliamo chiamarla dall'alto l'idea di religione ancora oggi praticamente diffusa si fonda in altre parole sul cristianesimo occidentale che si è sviluppato in stretta connessione con la modernità europea e con le sue diverse espressioni culturali sociali e politico istituzionali e via dicendo su tutto ciò la letteratura è amplissima non provo neanche a riassumerla notando soltanto che per nostra fortuna è anche la letteratura che presenta significative convergenze e questo appunto autorizza in qualche modo a parlare di religione occidentale aggiungo che gli studi di world history più recenti tendono anche a sottolineare la prevalenza di punti di contatto fra le diverse confessioni cristiane dell'Europa moderna e contemporanea in particolare tra protestantesimo e cattolicesimo il che è piuttosto sconvolgente se pensiamo a quanti dibattiti sono stati fatti sulle differenze fra protestantesimo nelle sue varie articolazioni e cattolicesimo e che invece viste appunto in una prospettiva di world history forse presentano un numero di affinità superiori agli elementi di differenza su cui si sono riempite molte migliaia di pagine anche da parte degli storici un'estrema sintesi perdonatemi questa sintesi proverei a dire che la regione occidentale valorizza l'interiorizzazione della fede e degli orientamenti che questa la fede ispira anche sul terreno morale e dei comportamenti pratici ciò è particolarmente evidente per le chiese protestanti che hanno molto valorizzato il rapporto con la scrittura ma è presente e questo mi sembra giusto notarlo anche in quella cattolica che ha molto insistito nel modello post-tridentino sull'istruzione sulla formazione dei fedeli religione interiore non significa religione individuale l'interiorità del cristianesimo occidentale si forma infatti all'interno di comunità religiose con rilevanti architetture istituzionali anche se molto diverse fra loro con proprie forme di autorità di regole di pedagogie di punti di tradizioni e così via lo sottolineo perché un certo senso comune che è un senso comune poco storico direi spinge invece a porre in antinomia chiese e fede personali istituzione interiorità comportamenti prescritti religione individuale indubbiamente la storia del cristianesimo è stata nella parte storia di dissenze e di eresie tuttavia sotto il profilo storico il nesso fra istituzione e vissuto religioso ha svolto un ruolo importante e qui il numero degli storici che lo hanno messo in rilievo è praticamente infinito ricordo solo Gabriele Bram Michel Vauvel Emil Poulin Gabriele De Rosa Andericcardi e tanti altri e per certi versi persino la storia dei dissenzi e delle eresie è relazionata sotto il profilo storico appunto seppure attraverso il conflitto a quella delle istituzioni insomma il nesso fra istituzione ecclesiastica religione interiore forme esteriori spiritualità vissuta si è costituisce un punto centrale nella storia di quella che ho chiamato sinteticamente religione occidentale seppure insieme alla consapevolezza di una distinzione sempre più chiara da questi due aspetti senza separazione e senza confusione e proprio tale distinzione è stata essenziale per rendere compatibile questo tipo di religione con la differenziazione tra diverse sfere di vita religiosa sociale economico economica culturale eccetera sviluppate dalla modernità europea a partire dal quindicesimo secolo tale distinzione appunto fra aspetto istituzionale e aspetto come dire di religione interiore ha reso compatibile questo tipo di religione con l'unità del controllo politico cioè con la sovranità dello Stato la distinzione fra istituzione e interiorità ha costituito anche la base del rapporto fra chi è stato le cui competenze hanno cominciato a differenziarsi sempre di più anche quando era in atto una forte compenetrazione fra le due istituzioni ricordo il caso classico della chiesa anglicana in cui la massima autorità politica e la massima autorità religiosa coincidono nella stessa persona che è la persona del re oppure in questo caso della regina ma ovviamente ciò non ha mai comportato un'identificazione fra chiesa e stato e soprattutto fra religione e politica nella coscienza o meglio non ha mai comportato non ha mai comportato la consapevolezza di una distinzione ovviamente nella frequente sovrapposizione insomma come sappiamo fra queste due autorità sulla base di tale distinzione insisto sulla parola distinzione non separazione distinzione ancora una volta fra istituzione e religione gli stati europei hanno regolamentato come è noto lo spazio della religione della vita pubblica qui sarebbe da parlare ovviamente molto a lungo ma richiamo solo i termini confessionalismo libertà religiosa laicità secolarizzazione per sintetizzare i molti aspetti di un lungo dibattito che ha accompagnato la regolamentazione dello spazio pubblico delle religioni all'interno degli stati e queste premesse che vanno da molto lontano se avete la bontà di accettarle appunto senza che io ve le spieghi in modo come sarebbe necessario più dettagliato ha reso possibile uno scambio fra cristianesimo occidentale e democrazia politica e democrazia rappresentativa in particolare che è già stato evidenziato anche questo da un'ampia letteratura questo scambio non è avvenuto a livello istituzionale cioè in altre parole le comunità cristiane in età moderna hanno spesso avuto una struttura autoritaria e non democratica ma ciò non ha impedito che i suoi membri nutrissero e trasmettessero sentimenti democratici anche questo è conto intuitivo ma per mia fortuna in questo caso posso citare un'autorità indiscussa come quella di Tocqueville che lo notò già nella democrazia in America osservando che i due elementi alla base della società angloamericana e cioè lo spirito religioso e lo spirito di libertà avevano caratteristiche molto diverse ma anche paradossalmente complementari se in quanto membri di una comunità religiosa i puritani si comportavano con grande durezza nei confronti dei peccatori sul piano politico questi padri pellegrini mostravano una tolleranza sconosciuta in America nei costituenti degli Stati Uniti sconosciuta gran parte dell'Europa del diciattesimo e del diciottesimo del diciassettesimo e del diciottesimo secolo ho qui una bella citazione di Tocqueville che però vi risparmio per motivi di tempo insomma è stata la religione interiore a intervenire in uno scambio fra cristianesimo e la democrazia anzitutto a fondare in particolare quel principio di autonomia mi pare che lo richiamasse prima Vinzia Fiorino cioè quel darsi la legge da sé che ha svolto un ruolo molto importante nella storia della democrazia richiamerò qui brevemente i due esempi di grande peso peraltro che sono quelli del rapporto fra la religione interiore e i valori della libertà e dell'uguaglianza in cui secondo Norberto Bobbio si riconduce la dialettica democratica fra destra e sinistra in Europa occidentale il prolesimo confessionale derivato dalla riforma e le successive guerre di religione sono state l'origine di una progressiva affermazione della libertà individuale di fede religiosa che ha aperto la Stata a riconoscimento di altri diritti di libertà infatti la necessità di salvaguardare l'unità dello Stato tenendolo fuori dei conflitti religiosi fra credenti di diverse confessioni cristiane ne ha sollecitato dello Stato la neutralità in questo campo e la sua accettazione della libertà di credenza religiosa dei singoli sottolineo questo punto e cioè più o meno quello che noi oggi intendiamo con freedom of religious belief meno ampio di un'incondizionata freedom of religion la neutralità dello Stato nel campo delle credenze religiose si è poi tradotta in un'autolivitazione più complessiva del suo potere dello Stato e nell'affermazione di quelle che Isaiah Berlin ha definito la libertà da o libertà passiva la quale riconosce in primo luogo una libertà di pensiero che è modellata non a caso su quella delle credenze religiose sulle sue conseguenze la libertà di espressioni associazioni stampa eccetera insomma da questa autolimitazione ha avuto origine molte parti di quel patrimonio del pensiero liberale tra cui anche questo a me pare interessante la divisione dei poteri essenziali nell'architettura liberale e anche democratica del cristianesimo da cristianesimo occidentale sono anche avvenuti molti input nella direzione dell'uguaglianza come ha scritto Robert Dahl mi limito a citare questo questo studioso dell'emocrazia molto noto storicamente ci scrive l'idea di uguaglianza intrinseca acquistò molta forza soprattutto in Europa e nei paesi di lingua inglese grazie alla comune dottrina del giudeismo e del cristianesimo condivisa anche dall'islamismo secondo cui siamo tutti i figli di Dio a pari titolo anzi fu proprio su questa convinzione che Locke basò la sua affermazione dell'uguaglianza naturale di tutte le persone in uno stato di natura e quindi non voglio andare oltre ecco ho semplicemente ricamato alcuni elementi di questa comunicazione chiamiamola così tra la religione interiore degli europei degli occidentali dell'età moderna e contemporanea e i valori di libertà e uguaglianza che sono propri della democrazia naturalmente tutto questo non ha impedito la presenza di forti conflitti istituzionali cioè di forti conflitti fra la Chiesa e lo Stato la tendenza dello Stato a restringere lo spazio comunitario delle religioni e qui sarebbe interessante anche una riflessione sull'ebraismo che ha rappresentato comunque una presenza importante sul terreno religioso appunto nell'Europa moderna e contemporanea una presenza non a caso poco tollerata dagli Stati proprio per le sue forti valenze comunitarie anche per le sue forti valenze comunitarie più che non per certi aspetti nel nel cristianesimo ma non voglio adesso fermarmi su questo aspetto che pure ovviamente è importante complementare per fare una riflessione completa sul rapporto fra religione fra cristianesimo in questo caso e democrazia perché la storia dei conflitti fra Chiesa e Stato è nota è più nota e quindi credo che sia in questo momento meno interessante richiamarla naturalmente l'espressione più evidente la ricordo soltanto di questo conflitto è venuta dopo che quell'antica distinzione fra istituzione religiosa e fede interiore è diventata separazione fra Chiesa e Stato con la rivoluzione francese e la reazione che ciò ha comportato in modo particolare nella Chiesa Cattolica che ha potentemente rifiutato sotto varie forme quello che poi è stato chiamato il principio di racità appunto che traduceva la separazione fra Chiesa e Stato noto soltanto quindi permettetemi ecco di saltare questo enorme e importante capitolo noto soltanto che uno sviluppo importante in tutto ciò è venuto con proprio con la democrazia intendendola nel suo accezione più frequente cioè la democrazia di massa del novecento prima bellezza aveva la cortesia di richiamare alcuni miei studi su questo in effetti se noi consideriamo la Chiesa Cattolica in Italia dopo la prima guerra mondiale è evidente che la reazione della Chiesa Cattolica in Italia all'avvento della democrazia è stata inizialmente molto negativa ed è stato uno dei fattori più rilevanti dell'avvento del fascismo in Italia non tutti però nel mondo cattolico hanno pensato le cose in questo modo cioè hanno rifiutato la democrazia di massa e naturalmente basta ricordare personalità come Sturzo e De Gasperi per capire che c'è stato chi ha indicato invece una strada esattamente opposta cioè la strada di un'accettazione da parte della Chiesa della Chiesa Cattolica ovviamente della democrazia di massa e soprattutto della sua articolazione in partiti che ha rappresentato una grossa difficoltà dal punto di vista cattolico perché l'idea delle parti in conflitto fra di loro urtava contro una serie di convinzioni profondamente radicate ma paradossalmente Sturzo De Gasperi che si rifacevano non a caso a Tocqueville avevano la convinzione che la Chiesa Cattolica nonostante la sua come dire articolazione istituzionale non democratica basta pensare al ruolo della gerarchia al ruolo del Papa all'interno della Chiesa Cattolica specialmente all'epoca avrebbe potuto questa Chiesa ripeto non democratica come già aveva notato Tocqueville per i puritani del 6-7 svolge un ruolo positivo ai fini dell'affermazione della democrazia naturalmente hanno avuto torto in una prima fase e hanno pagato per questo Sturzo De Gasperi ma in qualche modo la storia ha dato loro ragione perché dopo la seconda guerra mondiale in Italia si è affermata una democrazia dei partiti in cui la Chiesa Cattolica è stata fortemente coinvolta in varie forme naturalmente complesse che non è caso qui di discutere e quindi questo ha significato una sorta di riconciliazione tra la Chiesa Cattolica e la democrazia e tutto ciò che questo significa prima ancora che con il Concilio Vaticano II venisse meno anche l'opposizione dottrinale ai principi di libertà religiosa ai principi di laicità eccetera eccetera che sono stati appunto sanciti in sede ripeto dottrinale dal Concilio Vaticano II ma dopo che già storicamente si era compiuto un'evoluzione molto importante come quella che ho già accennato e cioè nel coinvolgimento di fatto della Chiesa Cattolica in un percorso pienamente di costruzione della democrazia caso italiano ma se ne potrebbero fare altri vengo all'ultimo punto del mio intervento per non come dire sfidare troppo l'eroismo di coloro che mi ascoltano di voi tutti che mi state ascoltando perché siamo alla fine di un lungo impegnativo pomeriggio e appunto è l'ultimo punto un pochino consistente ma è l'ultimo punto ve lo assicuro ed è una riflessione sull'oggi e cioè vorrei tornare nella riflessione sull'oggi al parallelismo che ho indicato inizialmente tra la parabola della religione e della democrazia perché forse questo parallelismo che a me sembra ci sia stato in tutta l'età moderna e anche nell'età contemporanea all'interno del contesto occidentale e con questo parallelismo in forma diversa emerga anche oggi parallelismo di che cosa? parallelismo delle sorti della religione e delle sorti della democrazia ed è anche questo uno dei motivi per cui io ritengo che i cambiamenti che hanno riguardato i fenomeni religiosi pongano delle sfide davvero serie alla democrazia e facendo inclinare per come dire un dubbio sul fatto che si tratti davvero di una crisi non nella democrazia ma della democrazia le novità le novità sul terreno religioso come dire sono state tante negli ultimi periodi è una lunga storia lunga anche se riguarda soprattutto il ventesimo secolo queste novità in modo accelerato l'ultima parte del ventesimo secolo hanno molto a che fare con il cambiamento nei rapporti fra nord e sud del mondo hanno molto a che fare con il declino della egemonia occidentale nel mondo ma ricordo soltanto che alcuni studiosi molti anzi per la verità molti studiosi collocano più o meno negli anni settanta del novecento quello che viene chiamato da loro da molti di loro il ritorno del sacro ne ha parlato già nel novantuno Cilke Pell collocando proprio negli anni settanta questa svolta poco dopo Daniel Hervie Leger ha avanzato una riflessione sul nuovo cattolicesimo carismatico nel frattempo Machel Gauchet ha registrato un'intensificazione della fede nuove forme di riaffermazione di riconquista del sentimento religioso nel frattempo gli studiosi americani parlavano addirittura di desecolarizzazione per indicare addirittura un rovesciamento di prospettive rispetto a quelle teorie che avevano ipotizzato la scomparsa in tempi rapidi del fenomeno religioso in quanto tale o comunque un forte declino ecco quelle ipotesi quelle tesi sono state possiamo dire credo drasticamente smentite almeno nelle loro espressioni più estremiste cioè quelle che ipotizzavano di fatto la scomparsa della religione europa della modernità perché in effetti come dire i dati empirici ci dicono tutt'altro e tuttavia va sottolineato che il ritorno del sacro non significa fine della scristianizzazione cioè in altre parole la crisi della religione occidentale è continuata anche dopo questo avvento diciamo così questo ritorno del sacro e in un certo senso anzi il ritorno del sacro è diventato una delle componenti di una erosione interna e di una concorrenza esterna sempre più accentuata se si volesse cercare un fil rouge di tali cambiamenti si potrebbe partire da ciò che è accaduto negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo quando il campo metodista e battista soprattutto fra le comunità di afroamericani è iniziato a manifestarsi un fenomeno che poi oggi è molto noto e cioè il fenomeno del fondamentalismo perché nasce in ambito cristiano alla fine del XIX secolo anche se oggi lo conosciamo soprattutto nella sua versione islamica fondamentalismo basato sull'assunzione dei testi sacri come fondamento immediato cioè non mediato della vita dei credenti garanzia della loro inerranza obiettivo di un'applicazione letterale sul piano sociale religioso dei testi sacri insomma anche qui c'è un come dire una biblioteca di studi sul fondamentalismo che non vi sto a proporre se però vogliamo invece interrogarci non sul fil rouge di questi cambiamenti ma sulle manifestazioni che sono oggi più diffuse di quella che chiamerei una nuova religione anche qui intendendo per nuova religione non tanto una religione in particolare ma un modello di religione trasversale che tende a influenzare un po' tutte le religioni nel ventunesimo secolo ecco le manifestazioni più diffuse di questa nuova religione sono quelle espresse dal neopentecostalismo che appunto è un fenomeno trasversale ampiamente diffuso oggi dall'America Latina all'Asia passando per l'Africa e noto soprattutto nella sua variante neoprotestante di questi mutamenti nato nell'ampio campo dei fenomeni religiosi non è prevedibile l'esito finale ovviamente però direi che una certa fisionomia comune a questa che ho chiamato una nuova religione trasversale è possibile coglierla per esempio occupano un grande posto in questo tipo religione la preghiera collettiva spesso accompagnata alla musica dal canto i momenti di grande partecipazione collettiva l'esperienza di forti emozioni comuni più limitato invece l'aspetto istituzionale mi permetto di dire che meno sviluppata è la dimensione dell'interiorità mentre tra i suoi membri è diffuso un certo conformismo un certo moralismo direi nei comportamenti le diverse espressioni della nuova religione interpretano spesso ricerca di guarigione di benessere si parla di religione della prosperità che esaltano l'erricchimento individuale alimentando un giudizio negativo per chi non ce la fa diciamo così o si trova in situazioni di povertà o di disagio in genere queste nuove forme religiose non veicolano spinte verso la libertà e l'uguaglianza come quelle attraverso cui in passato il cristianesimo ha in qualche modo favorito l'avvento della democrazia in un certo senso questi nuovi fenomeni religiosi hanno fatto tramontare i tradizionali conflitti fra Stato e Chiesa e però al tempo stesso paradossalmente è entrata ampiamente in crisi anche la laicità quale strumento di composizione dei conflitti tradizionali appunto fra Stato e Chiesa e infatti la laicità supponeva una visione etica e antropologica condivisa da credenti e non credenti almeno in una certa misura ma questo orizzonte comune che è stato il background della laicità entra ovviamente in crisi quando su idee come cito le più comuni famiglia sessualità vita eccetera eccetera quando le idee sono tante diverse e a volte inconciliabili fra di loro direi che la nuova religione non apre la strada a rapporti più facili con gli stati democratici e anche non democratici e ha avuto ma ha avuto una larga influenza sulla politica contemporanea ha una larga influenza sulla politica contemporanea penso in particolare al ruolo dei leader carismatici che è molto importante in questa nuova forma religiosa in cui i credenti tendono a identificarsi in questi leader carismatici riponendo in loro in una grande fiducia e spesso in questi leader non c'è più quella distinzione tra religione e politica che è stata importante diciamo in tutta la storia del porto-pachistanesimo e democrazia sono leader religiosi ma tendono a svolgere anche un ruolo politico e viceversa intorno ad essi si formano delle forme di identità comunitaria che sono poco conciliabili con il senso di una comunità appartenenza a una comunità politica emerge spesso una certa contiguità tra questi fenomeni religiosi e le tendenze populiste che sono anch'esse come il noto basate sull'affermazione di un popolo vero che si contrapone all'elite e anche ad altre parti del popolo che però non viene considerato vero appunto autentico che non si identifica con il leader e così via sono giunto quindi alla conclusione del mio della mia riflessione ci sarebbe ancora molto da dire ma spero di avervi indicato alcuni elementi che a mio avviso tengono oggi unito la crisi della democrazia e lo sviluppo di nuove forme religiose ecco sono questioni ovviamente aperte che consegno visto che non sono in grado di dare risposte a queste alle domande poste da questi nuovi fenomeni vi ringrazio grazie da parte mia e di chi ha ascoltato ad Agostino Giovagnoli per questa bellissima relazione che di nuovo tira in ballo tantissimi snodi concettuali nuovi vi ricordo visto che questo è il mio ruolo che se volete intervenire se avete delle domande da fare se volete proseguire la discussione eccetera eccetera potete farlo in due modi cioè potete alzare la mano come vedrete probabilmente nell'iconcina in basso a destra e quindi chiedere la parola e dall'altra parte se invece avete difficoltà potete scrivere un messaggio o a tutti o anche a me personalmente e ovviamente poi io vi do la parola vedo che le mani hanno già iniziato ad alzarsi quindi come dire non indugio oltre e do la parola a Fulvio Cammarano che vuole subito dire qualcosa agli altri e prego siete liberi poi di parlare sì grazie grazie mille per queste davvero interessanti relazioni che allargano l'orizzonte i temi sarebbero molti io in realtà volevo fare una domanda che è in parte una curiosità all'Antonella e cioè mi chiedevo se esiste attualmente comunque da dopo il 91 un tentativo di rielaborazione del concetto di liberalismo in Russia ho notato che nella tua relazione il liberalismo è comparso nella prima parte poi nella seconda parte il termine scompare e siccome effettivamente hai detto giustamente non dei diritti dei cittadini ma bisogna insomma preoccuparsi dei bisogni delle popolazioni questo si declina oggi comunque viene declinato con con il concetto di democrazia dunque può essere declinata anche in assenza di diritti lo sappiamo è stato fatto e viene fatto non così per il liberalismo allora la domanda visto che il dibattito interno alla Russia mi sembra piuttosto vivace e è dentro poi la riflessione del costituzionalismo occidentale mi sembra a tutti gli effetti molte di quelle questioni sono all'interno di quel dibattito la domanda è ma c'è attualmente o c'è stato un interesse a fare i conti con questo concetto del liberalismo o lo si dà per superato essendo strettamente connesso al tema dei diritti qual è la situazione attuale a che punto siamo diciamo con la riflessione sul liberalismo grazie a Fulvio Cammarano e lascerei subito la parola ad Antonella Sarumoni per la risposta mi pare difficile esaurire in poche parole infatti non diciamo impossibile però allora il dibattito c'è un grande dibattito c'è un grande dibattito che ha avuto fasi diciamo fasi alterne prima di tutto c'è stato dirò delle cose molto banali nella mia risposta prima di tutto c'è stata una fase di traduzione di traduzione vale dire che nella diciamo dalla metà degli anni 90 fino ancora ad oggi in Russia si è tradotto tutto si è tradotto di tutto veramente di tutto quindi è un dibattito che si è anche molto alimentato della dell'incontro con la storia del liberalismo con la riflessione sui classici eccetera quindi poi il problema è dove questo dibattito si colloca che è un po' il problema che mi trovo sempre di fronte nel affrontare insomma queste questioni sul tempo presente vale a dire che c'è un dibattito in ambito storico nell'ambito degli storici delle dottrine politiche in ambito politologico e allora io questo non l'ho potuto dire nella 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 mia relazione allora c'è intanto una presa di conoscenza che è stata la primissima fase secondo me assolutamente straordinaria perché questo era una riflessione sui testi e quindi c'era veramente un dibattito anche molto filologico poi c'è stata una riscoperta del dibattito interno perché anche la Russia ha una storia del liberalismo una storia del liberalismo e c'è stata una scoperta o in alcuni casi riscoperta dei pensatori liberali in emigrazione altra altro versante ricchissimo questa diciamo anche questa è un quindi è davvero un dibattito molto 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 complesso e peraltro al quale potremmo anche aggiungere anche il confronto con le varie scuole insomma quindi c'è stata anche una dal punto di vista accademico c'è stato anche un grande confronto con la con gli studiosi occidentali quindi con insomma ci sarebbe davvero molto molta materia in proposito un conto invece è il diciamo la ricezione del problema del liberalismo in un contesto non vorrei dire astorico perché affrontare queste questioni ed è questo il problema che non sono riuscita ad affrontare e che però avrei voluto affrontare è quello io mi sto convincendo e però lo dico in modo davvero molto molto ancora troppo in modo banalizzato mi sto convincendo che ci sia una tendenza una speciale forma di riflessione in cui si fa meno della storia e questo non è un fenomeno del tempo presente vale a dire che c'è una una allora non so è come se ci fosse un discorso indifferente alla storia è quello che ho cercato un po' prima che ho cercato in un certo momento di evocare dicendo che la riscoperta di alcuni autori ad esempio della storia del liberalismo russo del periodo per il rivoluzionario viene fatta come se affermassero qualcosa di eterno no ho accennato a questo a questo elemento quindi c'è un discorso anche accademico indifferente alla storia è come se nel ripensare alla storia del paese fosse sempre inaguato l'etnos e quindi un etnos quasi immobile che viene ricavato dalla etnologia russa e quindi oggi mi sto interrogando su quello che è stato il peso della etnologia russa che è una grande scienza una grande disciplina a cavallo fra diciannovesimo e ventesimo secolo che ha condizionato la rappresentazione russa della storia russa e quindi da questo punto di vista il liberalismo non c'entra più niente e quindi se ne può completamente fare a meno e quindi si può anche scavalcare completamente tutta questa grande riflessione accademica universitaria ma non solo che ha contrassegnato sicuramente soprattutto la fase fra la metà degli anni novanta e la metà degli anni duemila però ho risposto anche qui in modo un po' frammentato insomma ci spero che ci saranno altre occasioni per discutere per parlarne perché ci sono stati anche dei contenuti grazie 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 mille Antonella e grazie a Fulvio per la domanda ha alzato la mano Vinzia Fiorino quindi darei a lei la parola prego sempre che Vinzia non si sia bloccata proprio nel momento in cui aveva chiesto di poter parlare perché non la vedo più muoversi e quindi questo forse è un sintomo che la come dire tutti eccoci mi senti? sì adesso sentiamo prego ecco allora un attimo prendo un attimo di tempo perché il computer mi sta dicendo che la connessione si sta riavviando ho avuto parecchi black out a Roma certo è catastrofica anche da questo punto di vista allora no dicevo una domanda per Agostino se oltre al tema della religione interiore che mi sembra il rapporto con la democrazia anche il tema del foro interiore che non so come metti dove collochi rispetto alla religione interiore il foro interno interiore non nel senso della capacità di valutare la vocazione ma appunto in quanto come dire introspezione giusta acquisizione e consapevolezza della dottrina della chiesa è dunque importante nella definizione della persona e quindi dei diritti di cittadinanza ecco grazie non posso fare una domanda ad Antonella che per i motivi che avete visto non ho seguito perfettamente quindi poi vi ascolterò la registrazione grazie benissimo grazie Vinzia Fiorino lascerei la parola Agostino Giovagnolo se vuole rispondere sì sì volentieri grazie la domanda certo giusto un'osservazione molto giusta in effetti i livelli di questo rapporto tra istituzione e religione interiore sono molti e complessi sono stati molti e complessi e un po' in tutte le confessioni cristiane qui penso agli studi di non c'entra con il tema che dici tu ma di Roland Barthes sugli esercizi spirituali di Sant'Ignazio cioè sono in effetti mi hanno aperto come dire degli orizzonti che sono molto interessanti diciamo quindi questo livello molto articolato ecco diciamo i vari fori la sanzione esterna però poi c'è il foro interiore ci sono come dire la stessa autorità viene esercitata in molte forme diverse diciamo e quindi limiti che aiutano a costruire l'autonomia del soggetto la limitano anche ovviamente diciamo in una dialettica molto complessa e molto complicata qui tra l'altro visto che la domanda mi viene da te aggiungo un interrogativo interessante a cui io non so dare una risposta ma costato che la condizione della donna è generalmente migliore nelle aree dove il cristianesimo ha avuto una maggiore influenza ecco non saprei dire se c'è una connessione ma è un punto che avrei voluto dire nella mia relazione ma certamente è un dato di fatto che fa riflettere ecco rispetto pur sapendo quello che sappiamo tutti e cioè che in realtà le chiese hanno agito e ancora anche agiscono in un modo che limita il ruolo della donna alla libertà femminile eccetera eccetera ma in qualche modo diciamo la dignità del soggetto ha forse avuto anche un'influenza a questo livello ma mi limito a porre la domanda perché ovviamente non so la risposta il comitato ha una proposta per i futuri seminari mi sembra un'ottima idea soprattutto con la partecipazione se c'è Valeria no però non rispondo adesso perché davvero insomma non posso fare insomma è molto non è così così meccanica è un discorso ovviamente complicato va bene grazie di questo scambio ricordo ancora tutti che se volete intervenire potete farlo io da parte mia ah no per carità devo lasciare la parola agli altri prima di intervenire con delle domande mie quindi nel ruolo istituzionale visto che Guido Formigoni ha alzato la mano gli darei la parola prego sì ma non volevo rubarti spazio se vuoi intervenire non c'è problema c'è problema no io volevo ringraziare tutte e tutti i relatori gli interventi di oggi veramente molto molto interessanti mi sollecitava una questione la la relazione di Agostino Giovagnoli molto molto ricca diciamo con la sfida tra l'altro di tenere insieme appunto un periodo lunghissimo e un orizzonte amplissimo quindi veramente da apprezzare in questa sottolineatura che lui ha fatto in qualche modo del continuo scambio che c'è stato tra la storia contemporanea della modernità politica quindi anche della democrazia e la storia dell'evoluzione dei contesti religiosi comunque li definiamo no appunto nella loro più ampia accezione si arriva appunto anche a questa vicenda contemporanea degli ultimi decenni in cui ci sono delle cose effettivamente originali lui mi pare Agostino tu rileggessi soprattutto il tema del risveglio del sacro nella logica appunto di nuove esperienze religiose che si sono manifestate anche in forme appunto magari meno legate a tradizioni consolidate e che quindi hanno posto sfide nuove all'orizzonte politico a me pare anche che ci sia forse però chiedo perché è una cosa su cui è un po' di tempo che mi interrogo una risvolto diverso che è probabilmente lo si potrebbe forse raccontare come la crescente occasione di sfruttamento politico da parte di imprenditori politici veri e propri di come dire riferimenti linguaggi elementi valoriali o elementi concettuali o elementi di simbologia delle tradizioni religiose per creare nuove forme di identità anche di tipo politico a me colpisce per esempio ovviamente una parte di questo discorso del radicalismo islamico per quanto io personalmente ovviamente non ne sia un esperto ma guardando quello che sta succedendo per esempio in India c'è stata anche recentemente una lezione che abbiamo fatto interessante su questo tema l'uso di una tradizione come quella induista che apparentemente è molto poco politica almeno per quanto può apparire a occhi esterni da parte di Narendra Modi in una chiave identitaria complessa nuova interessante ma penso anche a un certo discorso politico in campo giapponese che riprende una tradizione appunto di antenati di riferimenti cultural religiosi appunto in chiave nazionalista sono tutte formule e modalità che mi sembrano di grande interesse e che nella crisi della o nella io non prenderei diciamo a questo punto posizione per queste due modalità nella o della democrazia contemporanea si riesprimono con grande forza e con grande interesse quindi su questo punto mi piacerebbe sentire appunto il parere di Agostino e eventualmente rilanciare il dipartito prego se posso rispondere il moderatore mi dà il diritto di rieplica ringrazio Guido perché la sua osservazione è molto giusta e hai perfettamente ragione perché io ho descritto descritto diciamo richiamato molto sinteticamente come dire il rapporto tra religione e politica a partire più dalla religione dalla nuova religione dai leader religiosi contemporanei e dalla loro influenza ma c'è moltissimo quello che tu dici cioè in realtà questi imprenditori politici che utilizzano diciamo le tradizioni religiose gli elementi religiosi i simboli religiosi e quant'altro appunto all'interno di un progetto che è un progetto evidentemente politico ed è giusto l'osservazione che fai sul Giappone e sull'India naturalmente anche la condivido aggiungo a modo di battuta che forse ci si potrebbe anche fermare più vicino per notare delle fenomeni di sfruttamento da parte di imprenditori politici diciamo del sentimento religioso della religiosità popolare e così via ma rimango ai tuoi esempi anche perché mi sembrano molto interessanti nel ricordarci a me per primo la complessità delle cose cioè io non ho per esempio accennato per nulla all'influenza del modello di religione occidentale sulle altre religioni perché in questi fenomeni attuali contemporanei ivi compreso il fondamentalismo non c'è tanto o soltanto un richiamo a tradizioni religiose diciamo così autoctone ma anche soprattutto una recezione sia pure molto particolare della modernità occidentale e degli strumenti della modernità occidentale per questo il modello ovviamente non il modello voglio dire la spiegazione storica è come esempio molto più complessa cioè l'induismo tradizionale non è quello di Modi Modi usa le tradizioni i libri sacri i libri sacri sono più che i libri sacri anzitutto le tradizioni del veda e via dicendo ma lo fa perché c'è stato il filtro molto importante di una grande influenza del protestantesimo anglosassone ovviamente come sappiamo nell'India otto novecentesca ecco diciamo contemporanea quindi è vero questo ruolo che svolgono queste figure hai perfettamente ragione in un intreccio che è davvero complesso perché ci sono appunto elementi autotoni e invece elementi di importazione occidentale elementi tradizionali elementi di modernità in questi fenomeni appunto a cui oggi noi assistiamo grazie grazie mille devo dire adesso ovviamente se ci sono altri che vogliono intervenire darò anche loro la parola ho un attimo di come dire di defiance nel mettere assieme tutti i fili del ragionamento che sono stati tirati in ballo perché mi pare la come dire con parole diverse in realtà secondo me c'è un un ragionamento che è stato tirato in ballo anche da Antonella Salomoni quando parlava appunto di etnos della definizione delle appartenenze e forse potrebbe essere utile cercare di fare una riflessione più ampia su quanto la forma di governo democratico sia centrale per la definizione della nostra civiltà mi verrebbe da dire europeo slash occidentale e quindi il nostro mi pare che in tutte queste nelle due relazioni di oggi è venuto fuori questa come dire tentazione a provincializzare l'Europa o a provincializzare l'Europa dell'Ovest nel senso la Russia che non vuole diciamo così semplicemente applicare copiare un tipo di democrazia che viene 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 d'altrove deve trovare rivendi con suo diritto no? molti hanno anche detto che in realtà è strumentale cioè che è molto furba questa quest'idea dei russi che per coprire la propria non democrazia invocano un diritto alla diversità e però tutto questo per l'appunto si fissa nella mia testa con la democrazia e come ha detto Agostino Giovagnoli con questa anche idea molto occidentale di che cos'è una religione di qual è il rapporto fra la religione e lo Stato e quindi anche la democrazia perché ovviamente io non posso fare a meno di pensare al contesto ucraino chiedo scusa se sto come dire abusando del vostro tempo però soprattutto a partire dal 91 l'Ucraina riscopre una propria identità mi vorrebbe da dire nazionale che in realtà è basata su un'idea di cittadinanza che vorrebbe rigettare l'etnos nel senso più diciamo così usatemi lasciatemi usare il tempo razziale del termine riscopre l'Ucraina come una comunità politica e uno degli elementi di base è esattamente la pluralità confessionale l'Ucraina si scopre sempre più come essere ucraini vuol dire essere democratici essere ucraini si possono avere religioni differenti si può essere cattolici cattolici uniati si può essere ortodossi con fedeltà a Mosca si può essere ortodossi con fedeltà a Kiev e anche qui in Ucraina ovviamente abbiamo un capo politico che è Poroshenko che cerca di strumentalizzare la religione si prende il Tom si arriva all'autocefalia della chiesa ortodossa Ucraina e si perdono le elezioni a favore di uno che invece è di religione ebraica abbastanza diciamo così osservante a ribadire il fatto che l'essere ucraino non vuol dire essere di una particolare religione ma semmai di averne tante fino a comprendere addirittura la minoranza musulmana dei Tatari che con l'invasione della Crimea da come dire un po' estranea alla nazione sono stati assurti a simbolo della nazione ucraina e quelli non c'entravano niente con quello allora mi rendo conto che tutto questo discorso fa fatica a stare assieme però mi pare che ci siano tanti elementi che ritornano e che hanno a che fare appunto con le appartenenze di un mondo che ha sempre più difficoltà nella contemporaneità a tracciare delle linee di confine classiche o ben definite e mi pare che forse è un po' in questo anche che c'è una crisi non lo so questo è un ragionamento libero sto ragionando mentre parlo della crisi della democrazia che la democrazia occidentale è in crisi perché è un po' in crisi il nostro senso di appartenenza a una comunità che non sappiamo più bene come definire che stiamo ridefinendo in maniera differente oltre a questo in realtà avevo anche una domanda vera e propria che volevo fare un po' provocatariamente a Antonella Salomoni che ha fatto questa ricostruzione molto molto bella di come Putin e tutto in realtà generazioni di intellettuali stanno facendo su come la Russia sta elaborando una propria via alla democrazia una propria democratizzazione perché poi gli studiosi scienziati politici dicono che si deve parlare di democratizzazione di processi di democratizzazione che non esiste la democrazia di per sé e la mia provocazione è questa ci sono però scienziati politici che dicono semplicemente e faccio qui riferimento non so alla scuola diciamo mi verrebbe da dire di Huntington gli allievi Lucan Way Stephen Levitsky che semplicemente dicono ma quella non è democrazia cioè quella che c'è in Russia semplicemente non è democrazia è un sistema autoritario che loro chiamano competitivo nel senso che mette in scena la competizione delle elezioni ma è assolutamente svuotato di significato allora mi chiedevo alla luce del ragionamento che è stato fatto da Antonella quanto è credibile questa interpretazione cioè dobbiamo rigettarla completamente questi non hanno capito nulla del mondo della Russia e di quello che sta succedendo oppure dall'altra parte dobbiamo dire quelle di Putin sono soltanto parole appunto che fanno parte del meccanismo di mettere in atto la competizione delle elezioni ma in realtà si sta coprendo una mancanza di democrazia sostanziale nella Russia nella Russia di oggi mi rendo conto che è come dire una domanda fatta in termini molto ruvidi molto volgari se volete però secondo me è come dire inevitabile come domanda quando noi parliamo della democrazia nella Russia di oggi do la parola Antonella sicuramente hanno ragione cioè io non questo però per me il problema non è un problema di verità o falsità il problema quello che a me interessa molto diciamo lavorando cercando di ricostruire l'insieme dei prelievi che vengono fatti della storia della democrazia ammesso che ci sia stata una storia della democrazia in Russia e dunque il problema non è quello né della verità né della falsità né dell'invenzione il problema è quello di creare un'idea di democrazia che è una una nozione fuori dal tempo completamente fuori dal tempo fuori dallo spazio fuori dal tempo quindi da questo punto di vista qualcosa con cui gli storici non possono avere a che fare in realtà credo che debbano avere a che fare con questo vale dire che noi siamo abituati a lavorare su categorie che hanno a che fare con lo spazio e con il tempo qui invece ci troviamo in questo discorso sulla democrazia perché di democrazia si parla è una democrazia autoritaria è una democrazia molti oltre al termine democrazia sovrana chiamano questa democrazia democrazia autocratica non ho evocato questo termine molto presente nel discorso dei ceti dei ceti di governo delle personalità insomma delle figure legate al potere quindi democrazia autocratica ma non è un problema di verità o di finzione quindi io posso dare anche per scontato che in diciamo noi siamo di fronte a un regime autoritario però diciamo fatto questo è una registrazione che faccio come osservatore e come cittadino ma non rientra all'interno di quello che è la mia preoccupazione di lavorare storicamente quindi a me interessa capire come si costruisce una idea di democrazia che è al di fuori del tempo al di fuori dello spazio ed è questo che si fa perché io non ho potuto citare tutta una serie di esempi in cui si parla dei siemschi e sabori della pricnina insomma tutta una serie di adesso Simone sa bene che cosa sono no? di tutta una serie di organismi che fanno parte della storia politica e della storia della filosofia politica di quel paese e dunque si costruiscono delle genealogie che non hanno diciamo non è un problema di verità di finzione sta di fatto che c'è a non so come dire si fanno cose con le parole però insomma io riprendo uno degli autori che mi sono carica Austin e quindi con le cose comunque si fanno delle parole però non so se rispondo un po' a quella alla tua alla tua domanda io posso darlo per scontato sicuramente siamo di fronte a un regime autoritario di nuovo tipo di vecchio tipo insomma di nuovo tipo di nuovo tipo ti ringrazio tantissimo di questa di questa risposta secondo me sì ovviamente è una risposta a quello che dicevo io io ho capito questo questo modo di ragionare secondo me bisognerebbe però non lo so se può servire come spunto porsi il problema del fatto che c'è stato un periodo per quanto breve dopo il 91 nel quale alla parola democrazia corrispondeva una e allora il problema anche storico è di capire come si sia arrivati a non avere più quella democrazia cioè uno come come Yeltsin che sparava contro il Parlamento lo faceva per la democrazia per assurdo e quindi certamente no è ovvio e ti ringrazio allora io non so forse vedo che qualcuno si sta già scollegando forse anche perché abbiamo deviato su un dibattito che era troppo focalizzato sulla Russia e vi chiedo vi chiedo scusa non vedo però altre mani alzate e non vedo altri messaggi scritti quindi non so se devo forse visto che Enzo è comparso dare un attimo la parola a lui per per un saluto finale di oggi e per non arriverci ovviamente a domani quando ci sarà l'ultima l'ultima sessione del del convegno Enzo forse no 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 io non devo avere l'ultima parola ci mancherebbe volevo chiaramente solo a questo punto però visto che me l'hai data ringraziare davvero i quattro relatori due moderatori del nostro gruppo del comitato scientifico è stato un pomeriggio davvero stimolante insomma direi necessario per certi versi ecco è stato necessario ritrovarci qui a discutere di democrazia e capendo per l'ennesima volta di quanto sia complicato diciamo farlo e sì ci diamo appuntamento a domani speriamo di avervi anche domani alla stessa identica ora di oggi alle 15 per chiudere questo convegno sociale Cisco ci sarà di nuovo la presidente quindi insomma cercheremo di anche di dare una degna conclusione al tutto il lavoro lungo che tutti insieme abbiamo compiuto quindi ci vediamo domani grazie davvero a tutti anch'io ringrazio tutti allora sì buonasera a domani grazie a tutti grazie a Simone applausi virtuali grazie buona serata grazie a tutti domani buona serata domani buona serata arrivederci grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti